che ti inventi. Sì, c'è una scena in un film, c'è un tizio che si avvicina e ti chiede tutto bene? E tu dici, oh sì, tutto bene, e continua a camminare e tu mi dici, no vabbè, ma era un pazzo per strada, non rappresenta nulla. Come non rappresenta nulla? È per le strade di Bergamo nel 2015, è ovvio che ti sta chiedendo se vuoi comprare. Ma porca di... perché io mi devo ritrovare a spiegare queste cose alla gente? Ora, sto cegrazzando con queste cose perché sono, diciamo, più interessanti, ok? Ma, ma, i simboli sono tantissimi, riguardano tutto il mondo ed esistono per un motivo, per permettere in un film di comunicare alcune informazioni più velocemente. Quindi ritorniamo per esempio alla fede, all'anello. se io all'interno di un film ti mostro una sequenza in cui uno si toglie l'anello e lo getta a terra per citare che, no, basta, il matrimonio è finito. Ho risolto ore di spiegazione. Perché tu capisci che questa persona si è rotta il cazzo, che non è la prima volta che litigano, che c'erano già problemi, che erano sposati, anche se io non l'ho mai detto, tu capisci che questi due che stanno litigando erano sposati, capisci che non sono ancora divorziati, capisci che lei vuole il divorzio. Ti ho detto un sacco di informazioni con questo tempo, questo, un secondo, cazzo, un secondo. Io ti ho detto tantissimo su loro due. I simboli servono a questo, a fare in modo che tutto quello che ti dico venga riassunto tantissimo e io le posso dire più in fretta possibile. Più io semplifico un concetto, meno tempo mi ci vuole per spiegarlo. Meno tempo mi ci vuole per spiegarlo, più cose posso dire nel film. Quindi più un film è profondo, più in genere contiene simboli. Ovvio, non è una regola, ma in genere è così. Alcuni simboli sono talmente palesi che li riconosciamo subito. Quindi io sto camminando per strada, c'è una persona che mi chiama per nome, mi volto ed è una persona incappucciata, vestita di nero con una falce in mano. È la morte. È la morte. È facile, perché nessuno va in giro con una cazzo di falce in mano, nessuno va in giro incappucciato e sa il tuo nome con una cazzo di falce in mano e comunque, cioè, è un simbolo molto specifico. Cioè, senza falce non lo capisco allo stesso modo, senza cappuccio non lo capisco allo stesso modo. Kaori mi dice, ho mandato sul server taggandoti la foto della fuente, assurdo. Che significa sul server? Che server? Quale server? Comunque sì, la fuente è chiusa ormai, purtroppo. Era sotto al papagaio. Non so se poi l'hanno spostato o che altro, però in teoria è proprio caputo. Da me è aperto. Dove? Las Veronicas o a Mondello in Sicilia? Come stesso font? Come stesso font? Cioè, c'è addirittura il ritratto del tizio, questo tizio in Italia non c'è mai stato, non lo parla l'italiano. Ma che di... ah, mi sta succedendo? Libri da consigliare? Beh sì, il dizionario ha dei simboli più di così. Cioè, ovvio, ci sono anche libri più specifici che potrei citarvi. Quello che cito spessissimo è Cromorama. Cromorama è un libro fantastico, ma è solo sui simboli del colore e le storie dietro al colore. Può un film essere troppo criptico con i suoi simbolismi? È sempre meglio avere uno spettacolo? Ok, dipende, dipende. Tu puoi anche fare un film che di proposito è criptico, non c'è niente da fare. Allora, vediamo. Devo tirare fuori qualche simbolo. Sì, sì, escono subito, escono subito. Come vedete, dizionario di simboli te ne escono tantissimi subito. Sono dizionari, quindi uno vale l'altro, cioè non è che deve essere scritto bene o male. Questo è quello che io usavo. E quindi questo so dirvi che è scritto molto bene. Purtroppo non ci sono così tanti simboli, eppure è gigantesco. Spesso mi capitava che mi servisse un simbolo e non trovassi nulla sotto nessun punto di vista. Ebbè, questo era quello che usavo io di solito. Diviso in due parti. Questa piccola meraviglia. Però sì, ce ne sono tantissimi. È un dizionario, quindi ce ne sono tantissime varianti. E ci sono anche simboli specifici, ovviamente. Ci sono quelli di araldica, ci sono quelli solamente di simboli di certe culture. Dipende, dipende. Ci sta un simbolismo dietro le prime due regole di Fight Club. Fight Club è pieno di simboli, ma no, non l'ho mai analizzato. Prima dello youtuber, che lavoro facevi? Beh, prima, anche durante, ho fatto la guida nei musei. Se posso consigliare un libro di simboli, però estremamente specifico, o un libro sui significati di simboli esoterici e magici? Prego. Può essere estremamente d'aiuto. Comunque sì, tu puoi fare un film anche troppo criptico per scelta. Andiamo a prenderci qualcosa di cui analizzare il simbolo, così diventa facile. E magari riusciamo a lavorarci bene. Allora. Andiamo a prendere qualcosa. Ah, se avete il film da suggerirmi, ditemi. Preferirei qualcosa di europeo, perché è più facile con la roba europea. Per quanto anch'io adori. Anche i film di Miyazaki sono pieni di simboli bellissimi, ma comunque è più difficile lavorarci. Di Tarkovsky. Dio mio. Dio mio. Cioè, io qui ho ogni tanto roba un po' pesante. Io ho un po' di film di Sokurov che potrei analizzarvi, però iniziare ad analizzarvi il Faust di Sokurov significa spararmi. Cioè, sto cercando qualcosa di semplice. Non Donni d'Arco, qualcosa di semplice anche per voi da conoscere. Allora, vediamo. Vabbè, tiriamo fuori la cosa più banale di tutte. Va bene. Forse davvero è troppo banale, però... Ci può stare, dai. Vi presento un film che potreste aver sentito nominare qualche volta nella vita. Il suo nome è, come potreste aver intuito, Biancaneve e Sette Nani. Allora, primo simbolo. Io mi sto ritrovando davanti un libro. Un libro di fiabe. Perché questo film inizia con un libro di fiabe che si apre? Perché il simbolo qui è dirti, ok, come ora ti sto raccontando il film, questa storia per questo film, beh, sto un po' simulando i tuoi genitori quando da piccolo ti leggevano le fiabe. Le fiabe da noi sono da sempre lette dai genitori e bambini da sera per mandare a letto i bambini. Tant'è vero che alcuni le chiamano le fiabe della buonanotte, le storie della buonanotte, eccetera. C'è un motivo, c'è un motivo. E questo libro chiaramente va in quella direzione. Poi, beh, è un libro che cerca di imitare la scrittura miniata del Medioevo e quindi ti porta nell'ambientazione medievale. Però va bene, andiamo su qualcosa di più semplice. Allora, prima immagine, è un castello. Non ci sono particolari simboli in quello che vediamo davanti a noi. Vuole farci sapere che c'è una foresta, quindi da subito pensiamo, oh mio Dio, c'è la foresta? Proprio a livello di subconscio neanche ci pensiamo. Semplicemente se uscendo dal castello si ritrovano subito in una foresta, non siamo sorpresi. E poi vediamo il castello. Quindi, cosa ci ha detto questa informazione? Ci ha detto che qualsiasi cosa tu stai per vedere si trova all'interno del castello. Infatti, qui c'è una camera multipiano che si avvicina. Guarda. Perché ci avviciniamo al castello? Per farci capire che noi adesso ci stiamo per entrare. Ok? Quello che stiamo per vedere si trova all'interno del castello. Nessuno ce l'ha detto. Non è che è uscita una scena che ho scritto adesso andiamo dentro al castello. Questo è l'esterno, adesso andiamo all'interno. Non viene detto. È solo così. Tu t'avvicini e quindi sa che stai entrando. Non serve altro. Ok? Questo è un simbolo abbastanza semplice. Poi ci troviamo davanti la regina. Non è che lei si è presentata dicendo Io sono la regina. Ha una cazzo di corona in testa ed è in un castello. Quindi che cosa vuoi che sia? La regina. Se lei avesse un altro contesto Per esempio È vestito uguale Con la corona e tutto il resto Ma si trovasse non nel medioevo Ma nel 2023 Non in un castello Ma per strada Che cosa sarebbe? Un nerd che va al Comic Con Stesso vestito Diversa ambientazione Altro significato Anche carnevale può essere un'idea Però per carnevale Tu ti immagini che ce ne siano altri Cioè Perché se è il Comic Con Basta che sei lei che cammina per strada Per essere carnevale Ci devono essere altre persone O curiandoli Perché se ha Halloween Deve avere una borsetta in mano Ed essere magari sera E l'hai risolta Ogni simbolo In un contesto diverso Ha un altro significato Ora Parlando sempre di simboli In questa scena Ci sono alcuni dei simboli Più famosi di sempre Guardate qui Eh I pesci I gemelli Giusto per recitarne due Aspetta Vediamo Ecco Qui si vedono meglio Leone Gemelli Questo dovrebbe essere scorpione Vero? Sto controllando Perché No ok Cancro prima Questo è il cancro No questo è il toro Pardon Toro Questo è il leone Questa è Credo che sia la vergine A questo punto Sì Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Ah sono pure in ordine Sono un coglione io Quindi capricorno Acquario Pesci E poi ariete Ok Spero che vi foste accorti Che ci sono i segni Zodiacali Ma è un altro simbolo Per dire che lei È una strega È in un ambiente Esoterico Quindi Che cosa ha davanti a sé? Ha uno specchio Che è circondato Da dei simboli Hanno scelto dei simboli Che non fossero Massonici O altro Per quanto Il fratello di Disney Fosse un massone Eccetera 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 Come tutti sappiamo Però Comunque Hanno scelto dei simboli Più innocenti possibili Per fare in modo Che siano riconoscibili Come è un simbolo È magia Sono tanti Eccetera Ma non hanno Un significato esoterico Specifico In modo che Lei non sembri una satanista Sembri solo una strega Qui chiedono Non significano Il destino nello specifico Vorrei ricordarvi Che lui ha un Lei ha un tendaggio Fatto di stelle Quindi Non sono concentrati Sul destino Sono concentrati Sulle costellazioni Quindi Solo sulla lettura Del mondo Del futuro Eccetera Che vuol dire massone I massoni Erano E sono Esistono ancora Un'organizzazione Segreta In cui ci sono Molte persone Anche molto potenti E che hanno Degli ideali Tutti quanti Su come il mondo Dovrebbe essere Tutto lì Com'è che si capisce Di non star Sovrainterpretando Un simbolo È difficile capire Che non lo stai Sovrainterpretando Però Si coincidono Contesto Autore Necessità di inserire Quel simbolo E magari ci sono conferme Da qualche parte Allora puoi stare Abbastanza sicuro Ma non c'è una conferma Sicura Che ti assicura Quale sia il confine Tra sovrainterpretato No Una cosa Campata per aria È assolutamente Sovrainterpretata Quindi se io In questo momento Dicessi Lei ha i capelli coperti Perché vuole rappresentare Il fatto che lei In realtà ha un cancro E sta morendo E quindi ha paura Di invecchiare Perché si accorta Che è vicino alla morte Perché ha il cancro E quindi vuole ammazzare Biancaneve Perché Biancaneve invece Ha tutta la vita davanti a sé Sto sovrainterpretando Perché Disney Nemmeno sapeva Dell'esistenza del cancro Praticamente Perché era Una cosa che Nel sacco di gente Moriva Non sapevano neanche Perché morisse I tempi Siamo nel medioevo E non c'è motivo Di parlare di cancro All'interno di questo film Non è un tema caro A Disney Per ora Ancora per quattro anni E quindi C'è Tutto lì Quella è una sovrainterpretazione Anzi Vi direi Se Stai sovrainterpretando Allora Una sovrainterpretazione Va nell'altra Puoi renderti Che stai Puoi renderti conto Che stai sovrainterpretando Un simbolo Può non ti rendi conto Che sovrainterpretandolo In un modo diverso Ottieni comunque La stessa credibilità Se Una cosa È più credibile Delle altre È difficile Che sia una sovrainterpretazione È più facile Non sicuro Ma è più facile Che sia invece Effettivamente Un significato sensato Da cercare Mi chiedete Suspiria Io mi ammazzo Se devo andare Da Suspiria Per quello Sto cercando Un film semplice Questo è un film Per bambini Quindi ha film Di una Ha simboli Di una semplicità Pazzesca Perché deve essere Praticamente Di da scalico Ci sono più Chiavi di lettura Per uno stesso simbolo Verissimo Infatti L'ho fatto L'esempio prima Già solo il contesto Cambia le possibilità Per il simbolo Ok Tra l'altro Parlavamo del cielo Eccetera Cosa c'è Cosa c'è alle sue spalle Ora Basso rilievo Del sole Indovina un po' Hai lo specchio Com'è lo specchio? Indovina un po' Fumi dal basso Verso l'alto Altra cosa Tipica Della stregoneria Ma Ma Davanti a noi Abbiamo un volto Primo Illuminato dal basso Che lo rende inquietante Secondo E' una maschera teatrale Questa Questa è una maschera teatrale Proprio tipica Della tragedia greca Ma non è Una maschera Nello specifico Cioè non è che c'è Questa maschera Nella commedia Nel tragedia greco Nel teatro greco Non c'è questa maschera Non è una Con un significato specifico Quindi è solo un richiamo Ora Introduciamo Biancaneve Che cosa vediamo Primo Ci sono colombe Simbolo di purezza I colombi Tra l'altro Nel medioevo Rappresentavano pure L'amore Eccetera 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 E la gente Che si lascia Anche troppo andare Ma Disney Vive negli anni In questo momento E negli anni trenta Quindi Vede le colombe Come simbolo di purezza La colomba Che nel cristianesimo Porta la salvezza Dopo la fine Dell'arca Di Noè Con L'arcobaleno E tutto il resto Cioè È tutto quanto Un simbolo di purezza Quindi Lei è accompagnata Degli animali Lei gli animali Non li disturba È tutta tranquillina E sta spazzando a terra Ed è vestita di stracci Essendo vestita di stracci Tu sai che il suo lavoro È questo Lei non sta pulendo Perché boh è casa sua Ma è una serva Nonostante A parole Ti abbiano detto Che lei in realtà È la principessa E viene accompagnata Subito da un elemento Che la renda dolce Quindi i colombi E da un periodo Dell'anno Nello specifico La primavera Subito Fiori Questo non è chiaro Se siano ciliegio Pesco Ditemi voi Ma fiori Che sbocciano Che è la gioventù Complimenti a Diego Complimenti a Diego La colomba è messaggera di Dio Sì Ma Disney vuole evitare I messaggi Espliciti verso Dio Sì Ci sarà un periodo In cui cambierà opinione Su questa cosa Ma in questo periodo Lui cercava di evitarli Perché voleva che la fiaba Fosse per tutti In tutto il mondo Anche perché così Vendeva di più E beh Il risultato effettivamente È questo Purezza Ok Ora Non c'è un simbolo Dietro al fatto che lei Abbi i capelli raccolti O le labbra rosse O altro Questi sono semplicemente I canoni di bellezza Dell'epoca All'epoca Se eri bella Eri così Non c'era l'idea Dell'acqua e sapone Che quindi se non ti trucchi Sei più bello O roba del genere Tanto è vero Che per esempio Il trucco che lei Indossa in questo momento Per essere realistico È fatto con del trucco vero Che succede Se mette dei simboli Dissonanti tra di loro Che sembrano forzati E passi per un ragazzino Quando un simbolo È non omogeneo Non ben Chiaro all'interno Della storia A quel punto Si capisce Che è un simbolo Ed è forzato Quindi esempio Molto veloce Spesso capita Che i ragazzini Mettono simboli Che hanno visto All'interno Degli anime In cose che non sono anime Quindi mi fanno Per esempio Un disegno In stile disney Il personaggio disney È arrabbiato E allora che ha Ha quel simboletto Che rappresenta Le vene Sulla fronte Ma quello È un linguaggio Da anime Quindi che succede Che io lo vedo E lo percepisco Come meno professionale Perché capisco Che è sforzato Sono due cose Che non c'entrano Nulla tra di loro Vuol dire che tu Le hai volute unire a forza E dite Infatti assomiglia Betty Boop Ma è disegnata Pure dalla stessa persona Quindi Sì sì La somiglianza Con Betty Boop Non è un caso Ora Le va al pozzo A prendere l'acqua E sta cantando In questa scena Parlando di Desideri Vi sfido Vi sfido A interpretarmi Questo pozzo In modo diverso Rispetto al pozzo Dei desideri Che è un elemento Classico Che è antichissimo Un sacco di nobili Nell'ottocento Si facevano costruire Il cazzo di pozzo Da mettere in giardino Solo per avere Il pozzo Dei desideri Ma il fatto Che lei sa candida Come la neve Non è un simbolo Per indicare Che pure È di rango molto alto Sì Ma nella fiaba Regionale Noi ora Stiamo analizzando Il film E nel film Lei è bianca Perché la fiaba Ha detto che è bianca Non vuole rappresentare altro Poi beh Qui che dicono Gli zoccoli Che rappresentano la Germania Sì sì Tutta l'architettura Qui è tedesca Qui proprio Tutti i vestiti Dei personaggi Non Le loro I loro volti Il modo in cui sono truccati E la sua conciatura Di biancaneve Ma il modo in cui sono vestiti Gli oggetti con cui hanno a che fare L'architettura Sono tutti quanti Estremamente tedeschi Ci sono un paio di elementi Un po' più classici Ma vanno bene Vanno bene Lì dove stanno Perché vuole essere Un medioevo Un po' più mescolato Infatti non è di un'epoca specifica È di un'area Abbastanza specifica Che è la Germania Non l'Europa qualsiasi Ma la Germania Ricordandovi che questo È un film Cioè I tempi in cui la Polonia Era ancora uno stato nuovo Però Quindi mescolano Anche cose austriache Eccetera E Di un'epoca non specificata Del medioevo Ora Procediamo un pochettino Andiamo da qualche altra parte Sì Andiamo a prendere Il principe che arriva Ok Il principe Devi scegliere il colore Del cavallo del principe Ma vuoi non scegliere Il bianco Che si abbina Con le colombe di biancaneve Ma vuoi non creare Un trait d'union Tra il cavallo bianco E le colombe bianche Nulla da aggiungere Il vostro onore Quindi Altro piccolo simbolo L'amante che scavalca Il muretto del giardino È un riferimento pure questo Lo sapete? È un riferimento pure questo Ora Io ve lo faccio vedere Io voglio vedere Quanti di voi Quanti di voi Capiscono che questa scena È un'accettazione Ok L'avete vista In un miliardo di film Ma di sicuro È facilissimo Indovinare Qual è stato il primo Quindi Abbiamo un fanciullo Il fanciullo È innamorato Della ragazza Quindi il fanciullo Scavalca La parete Vabbè Due secondi Ci avete impiegato Due secondi Ci avete impiegato È Romeo e Giulietta Romeo Che scavalca Il muretto Entra nel giardino Della casa E lei si va a ritirare Sulla Sul balconcino E lui canta a lei Una lirica Ora Potreste dirmi No vabbè Ma l'hai vista solo tu Questa somiglianza Abbiamo il muretto Abbiamo il balcone Abbiamo i due innamorati Abbiamo la lirica Abbiamo il fatto Che loro sono Un amore proibito Che nessuno Vuole permettere Che esista E abbiamo Il genitore Che questa cosa Non la vuole Assolutamente permettere Le uniche differenze Rispetto a Romeo e Giulietta È il fatto Che si sono beccati Per un secondo Prima che le si ritirasse Sul balcone Fine È la fottutissima Scena di Romeo e Giulietta A che serve questa scena Per fare in modo Che nella nostra testa Pensiamo subito Cazzo Sono fatti l'uno per l'altro Non un amore impossibile Ah che romantico Che è lui Sta facendo la stessa cosa Di Romeo e Giulietta Cioè io adoro Farvi queste analisi Perché Sono Bellissime da fare Cioè Dovrei farle più spesso Dovrei farle più spesso Mi sto divertendo un sacco Dovrei farle più spesso Comunque Ovviamente Accanto a lui Ci sono Due alberi Due Da un lato Abbiamo Ancora L'albero in fiore Non vi so dire di nuovo Dai rami Sembra quasi un pruno Non ho capito Se è un ciliegio Qualcuno Ed esperto di fiori Mi sa dire Che cazzo È sta roba L'altro È un cipresso No cipresso Aspetta Ho un lapsus È cipresso Si chiama cipresso È l'albero dei cimiteri Ok Sì È un cipresso Mi è venuto un lapsus Improvviso Cipresso Abbiamo un bellissimo cipresso Voi avete visto i cipressi Dove stanno i cipressi Nei cimiteri Perché stanno nei cimiteri Perché una volta Si erano resi conto Del fatto che Quando seppellivi il cadavere Sottoterra Non è che facesse molto bene Alle piante E lasciavano andare Degli umori Poco piacevoli Quindi Quello che succedeva Che hanno scoperto Che alcuni alberi Resistevano a questi umori E quindi L'albero migliore Da mettere in un cimitero È il cipresso Perché li assorbe Purifica l'acqua Che si trova all'intorno E limitano Al solo cimitero Tutto quello Che è Il marciume Della terra In cui si stanno Decomponendo Di cadaveri Ok Sorpresa È bellissimo Che io vi insegni cose Ora Davanti a lui C'è Il fiore Nascita Rinascita Eccetera E il cazzo di cipresso La morte È un presagio È un presagio E il cipresso Viene inquadrato Solo ora Che ormai abbiamo visto Che la regina Li ha beccati Non c'è niente da fare Ora Ovviamente Anche lui Amico degli animali Se noi non Vivessimo Se noi non fossimo Eseri umani Davanti a questa inquadratura Diremmo Cazzo Se tinta la colomba Si sta sorriscaldando E no Sta arrossendo Questo è un simbolo Che veniva utilizzato Perché quando noi Diventiamo paonazzi Per l'imbarazzo La nostra pelle Diventa più scura E non più scura Nel senso di nera Più scura Nel senso di rossa Quindi Anche la colomba Davanti al principe Si arrossisce Perché lo trova molto bello Ed è tutto Questa è una fonte intendibile O interpretata da te Riguardo il cipresso Sentene dire Il simbolo del cipresso Legato alla morte È un dato di fatto È sempre quello Sentene dire All'interno di questo film Qui vi sto trovando io Le giustificazioni In realtà Quindi non è che ci sia Un momento in cui Walt Disney Si è messo a dire Ma sapete che gli alberi Hanno tutto un significato All'interno di questo film Posso dirvi che è improbabile Che gli alberi messi lì Siano a caso Dal momento in cui Primo Avevo un esperto di alberi Che stava lì a controllare Quelle cazzo di alberi Mettesse Soprattutto per la scena Del bosco più tardi E secondo Disney era un grandissimo Amante dei simboli Di questo tipo Non metteva mai Un fiorellino a caso No non è un albero Fatto a caso È chiaramente un cipresso Cioè i cipressi Sono proprio fatte così Non c'è niente da dire Il cacciatore Allora Il cacciatore Raggiunge la regina La regina è seduta Su un trono Un miliardo Di simboli esoterici Un miliardo Un miliardo C'è il trono Di sta donna È una cosa imbarazzante C'è così tanta roba C'è tutto C'è tutto Allora Il pavone Rappresenta due cose I mille occhi Quindi tenere d'occhio Il regno eccetera E il pavone Ovvero Pavoneggiarsi Lei che si reputa bellissima Alle sue spalle C'è un simbolo araldico Quindi Famiglia reale E nella famiglia reale Abbiamo Due Boh non so neanche come chiamarli Blasoni che rappresentano la corona Oppure Due soli Dietro alla corona Ovvero Il re che illumina il mondo Non ve lo so interpretare E poi Il famoso biscione Che è un po' come Nel simbolo degli sforza Può essere o Un ricordo di qualche impresa Importante Della potenza Eccetera 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 O poi Io vi adoro Io vi adoro Io vi adoro Il serpente dell'Eden Io vorrei ricordarvi Che questa è la donna Che più avanti Darà una cazzo di mela A Biancaneve E la tenterà Con la mela Che in realtà Le fa del male Sì Adamo e Deva Il collegamento Tra Biancaneve Adamo e Deva È potentissimo Ma già lo sapevamo Cioè Non è che I Grimm Si sia ritrovati A scrivere Mela A caso Però Capite Capite che Disney Che poi io mi ritrovo Tutte le volte A avere a che fare Con la gente Che dice No guarda C'è scritto Sex Se vado a unire Le radici A terra In questa scena Ma voi vi rendete conto Che sta roba Ha dei simboli Estremamente più espliciti E io sto parlando Dal nulla Cioè non Sto parlando Dal nulla Sto facendo una live Improvvisata Su un film Detto da voi Cioè Detto da me In realtà Perché Essendo il numero uno Essendo che il file Si chiama Hashtag Uno Biancaneve Cioè Essendo che il file È letteralmente No Ah ok Ero convinto Di averci messo Il numero prima Invece no Biancaneve Inizia con la B E quindi era uno dei primi Comunque Ora Lei Vuole Che cosa Uccidere Biancaneve Va bene Ma come prova Della morte di Biancaneve Vuole il suo cuore E indovina Che cosa c'è qua sopra E indovina Che cosa c'è Sulla scatola Scatola che è Del colore del cuore Ovvero rosso Un cuore Trafitto da un pugnale Serve che vi dica Che cosa sta chiedendo Al cacciatore Visto che il cacciatore Ha un fottutissimo Pugnale in mano Ora Anche qui Questa è Questa è un'inquadratura Cioè Quello che sto per dirvi Non è un simbolismo È probabile Che le betulle Siano state scelte Perché rendevano L'atmosfera Un attimino più Chiara Perché con Veri Alberi Scuri Non avrebbe creato Quest'atmosfera Così bianca Il cielo è coperto Ovviamente Perché deve essere inquietante Luce proiettata in avanti Da parte del cacciatore Il cacciatore è nell'ombra Aggiungono il dettaglio Del cavallo Così è chiaro Che lui l'ha portata Qui a cavallo Lui aspetta nell'ombra In modo che sia inquietante Come una minaccia E lei invece È perfettamente illuminata Questa è Semplice fotografia Ovviamente Simulata Perché siamo in un film D'animazione Ma Tra l'altro Altro dettaglio Vi rendete conto Che è un dipinto Quello in cui L'essimo si sta muovendo Guardate l'acqua E rendetevi conto Di quanto cazzo Fossero bravi alla Disney Cioè Vi rendete conto Che non c'era Ai tempi il computer E questa è acqua Che si muove In un dipinto Mamma mia Mamma mia Come hanno fatto L'effetto dell'acqua Erano due signori Che si occupavano Alla Disney Di tutti gli effetti Speciale di questo tipo Ed era Un piccolo esperimento Che fecero Con Ok non vorrei dire Cazzate Quindi non vi dico Cosa lo fecero Ma sappiate Che sono Le stesse due persone Che poi si sono occupate Di quello di Pinocchio Mi pare Venire uccise Perché ce l'hanno detto In tutti i modi Tiene tra le mani Una creaturina In difesa E noi creiamo Un'associazione Il bambino Quando guarda Queste scene Non ha ben chiaro Quanto lei Possa essere fragile Perché un adulto La vede È una fanciulla Con un uomo Grande e grosso Con un pugnale Il bambino Non l'ha neanche visto Il pugnale Il bambino Non ha abbastanza Esperienza del mondo Per percepire La fanciulla Come donzella In pericolo E il cacciatore Come vero e proprio Carnefice Quindi se tu le metti In mano Un uccellino Il bambino Fa un'associazione diretta Vede che c'è Un uccellino In difeso Vede che È colore di Biancanevi Biancanevi lo tiene in mano Tutto tranquillino Crea un'associazione E dice Oh no Biancaneve È come l'uccellino Sono due creature In difese innocenti Ok No La tecnica Non è Tutti sono rodovetri Tutto quello che vedete ora Sono tutti quanti rodovetri Rodrovetri non è una tecnica Con cui hanno fatto l'acqua Non vi preoccupate Lui Tira fuori Ovviamente Il pugnale Ovviamente Lui è ancora vestito In stile medievale Tra l'altro Sto cappello L'avete visto anche In Robin Hood In Peter Pan Cioè Disney aveva Una passione Per ste cazzo Di piume rosse Che è incredibile Comunque Anche qui È fotografia Lui Ha gli occhi Perfettamente bianchi Il resto del corpo Invece è più buio Di quel che dovrebbe essere In modo che gli occhi Siano inquietanti Quando La sclera È visibile Sopra l'iride L'occhio Sembra sempre strano Cioè È una delle idee Piugioniere di Simpson I personaggi Sono sempre così Quindi sembrano sempre stupidi Con lo sguardo vacuo Sono sempre leggermente Estrabici Tra l'altro Tipo Psyduck Mentre qui Abbiamo questi occhi Che lasciano vedere La sclera sopra E quindi sono inquietantissimi Spaventosi E vengono sottolineati Dal fatto di essere Ancora più bianchi Di quanto dovrebbero essere Lui è ovviamente Contro luce Quindi tocco di luce Non cangiante Sul suo corpo Fosse stata cangiante Avrebbe attirato l'attenzione Gli occhi invece Sono cangiantissimi È cangiante però Il riflesso del pugnale In modo che tu veda La lama Ma la vedi solo Per un attimo Perché ai tempi Il cinema Pensava di voler essere Per forza Più nobile E quindi non poteva Mostrare sangue O la lama Per troppo tempo Eccetera Quindi deve essere Un po' più teatrale Come cosa E c'è l'ombra Di lui Su di lei L'ombra Fa in modo che Lei si senta schiacciata Fa in modo Sia che tu Veda la presenza Di un umore Davanti a lei Ma soprattutto La soffoca In questa scena Proprio vedete Anche l'ombra Che si alza lentamente Anche qui Cioè La lama Data Da una singola Linea cangiante Vedete Bellissima Bellissima cazzo Cioè questo pugnale alzato È una meraviglia È una meraviglia Posso chiederti una cosa Per arrivare ad analizzare In questo modo i film Hai studiato da autodidata Tramite i libri Che ho mostrato prima E hai partecipato A corsi specifici Io per fortuna Al liceo Ho avuto Due insegnanti in particolare Bravissimi Da questo punto di vista Bravissimi Cioè Hanno fatto un lavoro Pazzesco Non spiegarmi Tutta la cultura E del perché Facessero queste cose Quest'altre Non si sono mai trattenuti Su nulla Hanno sempre spiegato Che ne so La venere di Urbino In realtà Era per masturbarci Sì o roba del genere In modo chiaro Perché doveva essere Chiaro per me Quali erano I voleri del committente Eccetera 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 Però Di per sé Soprattutto lo studio Sul film L'ho fatto da autodidatta Nel senso che Ho partecipato anche Ad alcuni corsi Ma non ho mai fatto Un esame universitario Su questo E basta Nonostante ciò Mi sono comunque Fatto aiutare un sacco E ho chiesto sempre A tantissime persone Perché è una cosa Che mi è sempre appassionato Ok Comunque Lei scappa nella foresta Ora Questo è un altro simbolo Ci sono mille posti In cui lei può scappare In questo momento Ma scappa nella foresta Perché Nelle fiabe La foresta Non è solo la foresta Ora vi spiego Un altro fatto storico Questa Questo vi posso dire Che sicurezza 100% Che significa questo Non troverete mai Qualcuno che vi dice Che la foresta Significa qualcosa Di diverso Ok In tutte le fiabe Da sempre E in quasi tutto il mondo Stranamente Persino in aree Geografiche Dove di foresta Non è che ce ne sono Poi così tante La foresta rappresenta La stessa cosa La vita Con i suoi percorsi I suoi pericoli È il motivo per cui Capocciato Rosso Deve attraversare la foresta Per arrivare dalla nonna Quindi lascia una madre Trova una nonna Eccetera 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 È il motivo per cui In quasi tutte le storie I bambini si perdono Nella foresta Quindi Pollicino si perde Nella foresta Ansel e Gretel Si perdono nella foresta Biancaneve Si perde nella foresta Raperonzole Nascosta in mezzo Alla foresta La bella addormentata Nella versione di Basile È addormentata Nel bosco È sempre Sta cazzo di foresta Ok Attenzione Forest e Selva Non sono la stessa cosa Però comunque La foresta È sempre questo Sempre è la vita Con tutte le sue possibilità Nel bene E nel male Ma perché? Perché Una volta Quando noi eravamo Più civili Sapete no Si stava meglio Quando era peggio Una cosa che veniva Davvero fatta Erano delle prove Da superare In epoche proprio tribali Noi mandavamo I nostri figli Nella foresta Con un compito Del tipo Tieni Hai l'arco frecce Hai la lancia Hai un pugnale Hai qualcosa Devi tornare Che ne so Con un cinghiale Con un animale morto Devi andare a caccia E se torni con l'animale morto Basta Sei cresciuto Come gli spartani Bravi Ora col passare Col passare del tempo Questa cosa si è evoluta All'inizio era letteralmente Un lascio il bambino Nella foresta Se sopravvive Ha dimostrato Di essere diventato grande E essere entrato Nell'età adulta Col passare del tempo È diventata una cosa Più simbolica Quindi a un certo punto È diventato un Vabbè Non è Recuperare un animale morto Ma magari Ho nascosto Un idolo Nella foresta Ok Magari non è la foresta Ma è al centro Della città Ok Magari non è il centro Della città Ma è in casa E pian piano Si è trasformato Sempre di più In una cosa Prima simbolica E poi addirittura In un racconto Finché non è diventato Semplicemente Il racconto Di quando una volta I bambini Dovevano affrontare La foresta da soli Per preparare la vita Con questi racconti E quindi Tra tutti i posti In cui Biancaneve Può andare a nascondersi Non può esserci Che la foresta Perché in questo momento Il simbolo è quello Abbiamo una madre Che si sta rendendo conto Che la figlia Prenderà il suo posto È per questo Che sono regina E principessa Regina E principessa Non madre e figlia Non c'è un singolo motivo Per cui le debba essere regina Non c'è nessun motivo Per cui le dovrebbe essere Una regina Pensate alla storia Di Biancaneve Non cambia un cazzo Se lei È che ne so La figlia del mugnaio Non cambia un cazzo Se sono madre e figlia E lei una fa la sarta E la figlia È solo una figlia Perché sono regina E principessa Perché quando io ti dico Madre e figlia Non ci pensi Ma se ti dico Regina Ti sto dicendo Lei sta al potere Principessa Ti sto dicendo Lei starà al potere Lei non è al potere Ma il suo compito È diventare regina Al posto della regina Se io facessi Se io facessi madre e figlia Non è che la figlia Per diventare madre La madre deve smettere Di diventare madre O roba del genere No 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 Lei dovrà prendere Il posto della regina Perché le generazioni Cambiano e passano E la regina È spaventatissima Da Biancaneve Perché Biancaneve Sta crescendo Sta diventando più bella Di lei Prenderà il suo posto Ed è quello che succede A un sacco di madri Che si ritrovano In questa posizione Di dover lasciare il posto La figlia Lei non lo vuole permettere E Biancaneve Non può scappare Da nessuna parte L'unico posto In cui può scappare È fuori dal castello Ma fuori dal castello C'è la foresta Ovvero Il castello È la casa È quello che per lei È sempre stata La sua identità La famiglia La struttura Le cose che lei Aveva salde Quindi un posto Fatto di pareti Il castello Dove tu hai il controllo Una volta che scappa Dal posto in cui ha controllo Ovvero casa sua Fuori da casa tua C'è la vita Ed è la foresta Questi sono simboli Antichissimi Che Disney ovviamente Ha mantenuto All'interno Del suo film Questi non fanno parte Della cultura Degli Stati Uniti Degli anni 30 Questo fa parte Della cultura Delle fiabe E questi sono simbolismi Che le fiabe hanno Più o meno Da 500 anni E poi Sono simboli Che arrivano anche Dal mito Quello della regina De principessa Magari no Ma quello della foresta Sì Anche nel mito È uguale Un po' Come il Siddhartha Mamma mia Che begli esempi Che mi tirate fuori Uno degli esempi Più belli è Buddha Buddha Una delle tante storie Del Buddha Racconta che Il Buddha Era questo bambino Che viveva Tutto tranquillo In una famiglia Così agiata E così potente Da permettere Di tenere nascosto Il mondo Quindi lui Passa tutta la sua vita Senza mai Vedere La realtà Tutti all'interno Del palazzo Non hanno il permesso Di Ce la posso fare Ce la posso Giuro che ce la posso fare Tutti all'interno Del palazzo Non hanno il permesso Di invecchiare Se invecchiano Vengono licenziati Non hanno il permesso Di avere disabilità Se hanno disabilità Vengono buttati fuori Se perdi un occhio Sei cancellato Non puoi più lavorare qui Se hai un taglio Non puoi presentarti Sul posto di lavoro E non puoi tagliarti Sul posto di lavoro Il sangue Non deve essere mai Mostrato al bambino La violenza Non deve essere mai Mostrata al bambino E il bambino cresce Vedendo le persone Che sono tutte adulte Tutte giovani Tutte belle Tutte brave Tutte buone E non vede mai niente Che non vada Sono tutte ricche Tutte stanno bene E poi quel che succede È che un giorno Mentre sta venendo portato All'interno Di una carrozza In realtà strada C'è un problema Con la carrozza Lui ha l'occasione Di sbirciare fuori dalla finestra E fuori dalla finestra Vede il popolo E il popolo È composto da vecchi Mendicanti Gente che muore di fame Malati E questa cosa Lui non l'aveva mai vista E resta sconvolto È lo stesso concetto È come il protagonista Di Metropolis Complimenti Anche Metropolis Dovrebbe essere abbastanza facile Da leggere Ma è comunque Quattro ore di film È bello pesante Restiamo sulle cose Da un'ora e mezza Vi prego Che già siamo arrivati A nove minuti Io quando ci ho impiegato Ad arrivare fin qua A un'ora Fantastico Ora lei arriva nella foresta E qui i simboli Diventano un po' pochi Perché qui È una scena d'azione E nelle scene d'azione Non è necessario Nascondere simboli Lei è in pericolo Scappa Ci sono occhi Ci sono pipistrelli Creature spaventose Ci sono questi Questi rami Che sembrano Delle mani Ok Per farti capire Che lei È talmente presa dal panico Che vede il pericolo Anche dove non c'è Ma non serve a nulla Se non a giustificare Il fatto che lei Sia in ansia E terrorizzata Quindi C'è un buco E allora il buco È a forma di coccodrillo Lei vede occhi In qualsiasi cosa Si sente in pericolo Vede questi Cioè Li conoscete da dio Se da bambine Avete visto Biancaneve Sapete perfettamente Quanto è spaventosa Questa scena In cui voi vedete Questi tronchi Diventare Davanti a voi Dei cazzo di allegatori Terribile Terribile Ok La scena è spaventosissima Bellissima Questa inquadratura Tra l'altro C'è Uno studio pazzesco Delle linee di forza Che è incredibile Incredibile Mamma mia Fate caso Agli archi Sono tutti archi E tutti gli archi Sono piegati all'albero Cioè Guardate Questo è un arco Ogni Passaggio Da un dito all'altro È un arco Anche la mano stessa È un gigantesco arco Archi Archi I punti Focali Vanno tutti quanti Verso di lei Che è anche l'origine Della luce In realtà Da lei parte la luce In ogni direzione Perché lei ovviamente È la buona E lei è piegata Su un arco Spaventata E sottolinea L'arco pure col gomito E tutto va in questa direzione Che è l'unico posto In cui lei deve scappare E invece Non ci va Capite E le foglie Ancora fanno archi In quella direzione Per farti capire Che lei è senza via di scampo È una cosa pazzesca Mamma mia Quanto è bello Così si fa un film Cazzo Così si fa un film Mamma mia Mamma mia Che poi capita spesso Che ci sia gente là fuori Che mi dice Ma sto film è bellissimo Diverte Intrattiene È carino Perché dice Che non è poi un granché Perché questo Questo è quello Che pretendo da un film Ok E quando tu mi proponi Un film Che ha un'inquadratura A cazzo Così giusto Per inquadrarmi Biancaneve Io mi incazzo Perché Fare questo È gratis Farmi bene Anche solo Gli archi E le linee di forza È gratis È solo Essere bravi A fare il proprio lavoro Tu puoi farlo Con zero centesimi Quindi se non lo fai È perché non sei capace O non fai un buon lavoro O non ti impegni Tutto lì E ci sta Ci sta Però è da questo Che dipende La qualità di un film Poi capisco Che sì Questo film diverte Va bene Va bene Che diverte Ma che cosa fa Per divertirti Perché qui C'è uno studio Pazzesco Di qualsiasi cosa E tutto fatto Con un impegno incredibile E non sono molti I film Che possono reggere Il confronto Con Biancaneve Ora Lei piange Viene avvicinata Dagli animaretti Della foresta Vabbè Sono animali In generale Generici animali Che vivono Nella foresta tedesca Hanno scelto Solo animali Erbivori Perché Perché Disney Giustamente Sul momento Si è detto Aspetta Aspetta Se io in mezzo A loro Ci metto Un animale carnivoro Come giustifico Il fatto Che non si Pappi gli altri Ah giusto Alcuni animali Non sono tedeschi Cioè Questo è un chipmack Cioè Io non Non lo so Non lo so Non lo so Perché Cioè Va bene Gli uccelli non sono Erbivori Sono insettivori E Sì Sì Credo che Sì Insettivori Sia la parola Giusta Però 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 I procioni Pure sono Americani Cazzo è vero In questa scena No ma ci sono Anche i procioni Ok Diciamo che Non è Non Non Dobbiamo fidarci a questo film Sia per essere precisi Sull'ambientazione Sia per essere precisi Sull'epoca Va bene Non è che Disney era un po' confuso È che Probabilmente ha fatto Una buona Vedi mezzo Tra Stereotipi Che aveva in testa E Scelte Americanocentriche Ma va bene così Va bene così Ok Comunque sappiate Che gli animali qui Non è che hanno Un significato Nello specifico Non c'è molto Di cui discutere Anche qui Guardate l'acqua Guardate l'acqua C'è Mamma mia Mamma mia Il lavoro Che hanno fatto Il lavoro Che hanno fatto Comunque sì Lei è amica Di tutti gli animali Perché lei è pura Eccetera 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 Gli animali Le aiutano ad alzarsi Lei inizia Ad abituarsi Alla foresta A dire Aspetta Ma la foresta Non è così male Perché? Perché è così Che funziona Anche con la vita All'inizio Magari si è spaventato Perché è una novità Ma a un certo punto Capirai Che non è poi così male Tra l'altro Questi cieli Mamma mia Da romanticismo Inglese Dell'ottocento Una cosa bellissima Comunque Lei arriva Finalmente Alla casetta Dei nani La casetta Dei nani Rappresenta Una nuova opportunità Di trovare Un nuovo equilibrio È una nuova casa Ok? Tutto lì Ora Lei va a vivere Nella casetta Dei nani Ci entra E se andiamo a vedere Anche qui Non ci sono particolari Simboli Ci sono più che altro Elementi Di varie Epoche Permettetemi Allora Questo tipo di vetro È un vetro Medievalissimo Va bene? Il vetro a fondo Di bottiglia Così come Il vetro rotto Ma a mezzo riparato Fa stile Poi Questo tipo di Legni Con dei passaggi Che non so neanche io Come si chiamino Che richiamano tantissimo L'architettura trentina E poi Inizia a riconoscere Qualche dettaglio Anacronistico Permettetemi Questo beccuccio Proprio Da illuminismo francese Ma che Va bene Va bene Ci sono un po' Di elementi in casa Che sono un po' Contemporanei Perché Giustamente Si vuole cercare Di creare una casa Dove non ti verrà La domanda del Ma dove cagano i nani? Tu non vuoi Che lo pensino Deve somigliare Alle case di oggi Tant'è vero Che più avanti C'era scena In cui i nani Si lavano le mani All'interno Del lavatoio In casa Siamo nel medioevo Nessuno ha lavatoio In casa C'è il lavatoio Di paese Che usano tutto E c'è il pozzo Fuori da qualche parte In lontananza In casa Tu l'acqua corrente Non ce l'hai Non è una critica Non è una critica Disney ha fatto benissimo A fare questa cosa Perché i bambini In questo modo Hanno potuto comprendere Molto meglio La storia che avevano davanti Perché assomigliava A quello che loro sanno Cioè Il punto qui non è rappresentare Il medioevo Per fare un documentario Sul medioevo Qui il punto è Il medioevo Romanticizzato Che noi tutti Abbiamo in testa Come un tanto tempo fa Ma dobbiamo anche assicurarci Che certe domande La gente non se le faccia Ok I nani in realtà Sono avanzati Vengono dal futuro Io spero che non facciano Mai una cazzata Dal genere Nelle action Disney Comunque Anche qui abbiamo Un paio di Decorazioni Fitomorfe Abbiamo un paio di Vulti Che sono un po' Di gufo Eccetera Che non so nemmeno io Come chiamarvi Non so se hanno Qualche effetto Apotropaico Che altro Ma sono letteralmente Decorazioni Tirolesi È proprio un Guarda quanto Cazzo ci piace Il Tirolo Qui non c'è Molto da dire Entra in casa E la casa di nani È una casa Abbastanza Carina Piacevole Con dei piatti Anacronistici Questa è proprio Roba da inizio Novecento Non Non c'erano Le tazze I boccali Quanto meno Sono stati un attimo Più attenti Però va bene Tra l'altro Pure qui c'è Insomma A parte loro Che stanno lavando Senz'acqua Mamma mia Quanti elementi Di cui parlare Ci sono qui Quanti elementi Disney qui si stava Sbizzarrendo A creare una casa Carinissima Ci sono gli orologi Medioevo Ok Davvero È una cronistica Come casa È una cronistica Molto Lei fa le pulizie Eccetera Si diverte Va bene Ora Qui ci sono simboli I procioni Noti anche come Orsetti lavatori Penso che non ci sia Altro da dire Sono famose Perché lavano Tutto quello Che mangiano in acqua Prima di mangiarlo Tanto è vero Che sono andati virali Il video in cui danno loro Dello zucchero filato E sti poveri procioni Vanno a lavarlo Prima di mangiarlo E scoprono che a contatto Con l'acqua Sparisce E poi vedi Questi procioni Che ci restano male Ci restano male Comunque Stam polendo Su che cosa Che cos'è questo Allora Oggi Molti di voi Non so quanti di voi Sappiano lavare a mano Io Essendo figlio di gente Che lava Cioè Mia madre Onestamente Non l'ho mai vista Lavare al lavatoio Però Vicine di casa Eccetera Sì Assolutamente sì I fontanoni del paese Il paesino in cui sono nato Aveva 5 grandi fontanoni Il fontanone di Cazzanino Il fontanone di Sopracorna Quello centrale Quello di Sto invecchiando È troppo tempo Che non vivo A casa dei miei Quindi Non mi ricordo Come si chiama Quello più a est Quello di Cabonore E C'è un altro Non mi viene il nome È il fontanone Di Ciniplano Bene Questi sono i 5 fontanoni Che poi Da quel che ho capito Tecnicamente Ce ne sarebbero anche altri Ma va bene Sta di fatto che Questi fontanoni Erano lavatoi Ovvero delle grandi fontane Che producono acqua Direttamente dalla fonte E che hanno Una prima grande vasca Vediamo se ci sono Delle immagini Aspetta Così diventa anche più facile Per tutti coloro Che giustamente Non hanno mai visto queste cose Io sto spiegando Roba di montagna Vediamo se ce l'ho No No Bisogno di un'immagine Più specifica Questa non dà molto l'idea Ma può essere un inizio Vediamo se magari Cerco il nome del mio paesino Magari mi esce No No Il paesino è troppo sconosciuto Non esce neanche il paesino Va bene Allora L'unica foto che ho trovato È questa Ma la dovevo fare in fretta Permettetemi Questo è un fontanone Non me lo lascio ingrandire Vero? Vediamo se posso fare Control più Ok È andata Allora Questo è un fontanone Permettetemi la qualità C'è una fonte Da qualche parte A terra C'è questo Pezzo di ferro Che ha un tubo Da cui arriva l'acqua Scorre tranquilla E si raccoglie qui Qui dovrebbe esserci O qua sopra Un pezzo di ferro Per appendere il secchio di legno O di ferro Eventualmente E quindi riempire l'acqua Qua sotto Oppure delle barre di ferro Qua sotto Per appoggiarci il secchio Dipende I fontanoni a volte Sono diversi Eccetera Ci sono varie vasche Perché si sa mai Che possa servire Per far bere gli animali E poi c'è la vasca Del lavatoio Come vedete Qui c'è una pietra Inclinata Su cui si sfregano I panni Oggi tutte queste pietre Sono bellissime da vedere Perché sono diventate Talmente liscia Forse di essere lavate Con il sapone di Marsiglia Che ormai Cioè Sono praticamente perfette Sembrano quasi Di roccia morbida Ora Queste parti Dove tu sfregavi i panni Avevi una sabonetta Il panno bagnato E ci sfregavi sopra Per levare le macchie Spesso Sotto Avevano delle Delle bombature Una serie di Non so neanche come chiamare Piccoli balzi Che permettevano Al sapone Di sfregare di più Con le cose più sporche Ok E Fino agli anni 30 Si usava ancora Ed è questo Lo sta Simulando Lo sta Simulando Loro lavano sulla roccia normale Che La sfregatura normale Le cose più sporche Invece vanno Su questa cosa Che lui riproduce Con il legno Perché negli anni 30 Lo facevano effettivamente Di ferro Di plastica Roba del genere Ok Il mio vicino Ci pulisce i piatti Non è poi così male Non è poi così male Eh Qualcuno lo ha di legno Credo che ci fosse anche di legno Effettivamente Sono stupido io E Canzoni come La bella lavanderina Si riferiscono ovviamente A questo genere di roba È un piacere Farvi scoprire queste cose Qui si scherza Sul fatto che c'è anche Il chipmack Che lo sta facendo Sulla pancia della tartaruga Altro animale Tipicamente tedesco La tartaruga Comunque Lei pulisce per i fatti suoi Tra l'altro sta pulendo In modo tutt'altro che utile Cioè Non sta facendo niente di sensato Lei sta spazzando Con questa scopa di vimini In modo molto teatrale Cioè Se voi scopate così Vostra madre va a mazza Cioè Che cazzo è sta roba Che poi Non so se l'avete mai vista In questa scena Ma C'è sto scogliattolo Che boh È gigantesco Cioè Guardate lo scogliattolo Nella finestra In alto a sinistra Che cazzo è sta roba È una vacca Non è uno scogliattolo Quanto cazzo è grosso Sto scogliattolo Cioè È grande Un terzo di biancaneve È una cosa gigantesca Che poi si teletrasporta Altra cosa che Non so se abbiate mai notato Ma guardate 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 Come cazzo C'è arrivato di sopra È un altro È una cosa stranissima È comunque gigantesco È gigantesco Sto scogliattolo Qui non ci sono particolari simboli E vabbè Il film va avanti Ora I nani Potresti chiedere Perché i nani Fanno proprio i minatori Bisogno Sono felicissimo Di sapere Che ti trovi Ad ascoltarmi Senza capire Qualche dico E a Traintendere Allora I nani Erano il popolo Della terra I nani Arrivano Da Da alcuni Titani greci È una cultura Antichissima Che erano i titani Della terra Lavoravano La terra E Insomma Voi pensate Che una volta Si aveva Proprio questa percezione Che il dio Della terra Fosse anche Il dio Della ricchezza Perché La presenza Di cose Così preziose Nel terreno Come per esempio Ciò che davite agli alberi Ma Delle pietre Preziose Vi ricordo che i diamanti Tempi Non erano considerati Poi così speciali I diamanti Sono diventati così Preziosi Abbastanza recentemente Ma c'era l'oro C'era l'oro Più di così Faceva pensare Che il terreno Fosse La patria Della ricchezza E la ricchezza Era in mano Agli idee Della terra E gli idee Della terra Chi erano? I nani Ok? Ora Ovviamente Non è che Disney Ha disegnato sta cosa Pensando Sì adesso faccio Gli idee Della terra No No Questo è il motivo Per cui Al giorno d'oggi Ancora associamo I nani al terreno E ai grandi tesori Come succede Nello Hobbit E visto che Questi sono proprio Gli anni In cui è stato scritto L'Hobbit E sapendo Che Disney Voleva dare una vita I diritti di Tolkien Per avere Sta cazzo di cosa Perché voleva portare Il Simarillion Voleva portare Il Signore degli Anelli Lo Hobbit Qualcosa Al cinema D'animato Allora Lui aveva in testa Che no I nani Devono fare questa cosa Siamo nella stessa epoca C'è la stessa idea Di nani Diffusa Per tutti quanti Ok? Quindi Loro Lavorano in miniera E raccolgono Pietre preziose Tutto lì È solo questa L'associazione Tant'è vero Che qualcuno Ha anche detto Scusa ma se loro Si possono permettere Di avere tante Pietre preziose Perché non sono ricchi? Ma loro mica le vogliono Vendere le pietre preziose Perché loro sono Nani E quello che fanno i nani È avere miniere E scavare la terra Fine Non c'è altro ragionamento Su tutto questo Ok? Non cercate La logica In questa cosa C'è solo Un'associazione culturale Così come La regina Grimilde Potentissima Poteva mandare Chiunque ad ammazzare Biancaneve Poteva mandare L'intero popolo Ad ammazzare Biancaneve E invece manda Prima Un povero coglione Di cacciatore Che non c'entra un cazzo E poi va di persona Non è la logica È la questione simbolica Qui Quindi loro Sono nani Lavorano la terra Fine dell'associazione Non c'è altro C'è comunque Un fondo Di verità Perché pare Che la storia Di Biancaneve Sia nata Anche da un'esperienza Effettivamente Avvenuta nel 1700 Con questa Principessa Che scappò Di casa E andò a vivere Con gli uomini Che vivevano Appena fuori dal castello In mezzo alla foresta Che erano Guarda caso Dei minatori E spesso Nelle miniere C'erano persone basse Perché si potevano Infilare all'interno Di cunicoli più stretti Eccetera E raggiungere Parti della caverna Più profonda Eccetera 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 Però tutta sta roba Sono congetture Che non vi so dire Quanto siano vere o no Fino a che punto Si possa arrivare Senza dubbio Sono interessanti E vabbè Loro cantano Mentre lavorano Ci sono tutta una serie Di piccole gag Anche qui sono simboli Cioè Quello che vedete fare qui È praticamente La valutazione Dei cristalli Per sapere Se siano veri o di valore O no Che è una cosa Che si faceva Ai tempi Non nel medioevo Ma negli anni trenta Se tu andavi da un oro Poi questo che faceva Tutto lì E c'è anche un po' Di scherzo Nel fatto che Anche se nel medioevo Questa cosa non esisteva Cucciolo sta lì Con lo scopettino A tirare su Questi Queste pietre preziose Perché tanto per loro Non sono preziose Qui che sta la battuta Questa è una gag Grazie a un simbolo Noi sappiamo Che queste pietre Sono preziose Magari tra mille anni Non lo saranno più E questa non sembrerà Più divertente Come gag Sarà solo un Vabbè Gli scarti Vengono buttati via Sì ma per noi Queste sono pietre preziose E quindi il fatto Che vengano buttate via Così come se non la fosse È divertente E non finisce qui Altro simbolo Cucciolo non si muove In modo normale Eh no Eh no Cucciolo quando si muove Esagera i movimenti Molto più degli altri Tutti i movimenti Sono un po' esagerati Perché nell'animazione Ci si deve muovere Per archi Perché altrimenti Non sembra così realistica Non sembra così vivida Non sembra così fluida Ma sembra solamente Un filtro sulla realtà È il motivo per cui L'animazione In rotoscopio Non è poi così Entusiasmante Da vedere di per sé Mentre l'animazione Più classica La vera e propria Sella animation È molto più stimolante Beh è più stimolante Per un motivo Abbastanza preciso Ovvero Quando abbiamo a che fare Con l'animazione Di questo tipo Tutti si muovono Un pochetto troppo Agitano Si muovono Piegano tantissimo Si spezzano i ligamenti E riescono ad essere Più interessanti da vedere Ma a parte questo Cucciolo lo fa più degli altri Cucciolo lo fa ancora più degli altri Sì è una gag Frank Mi spiace Tu non avessi notato No non ho parlato Del design dei nani Ma anche perché Non c'è troppo Da dire Per quello di cui sto parlando ora Sto parlando soprattutto Di simboli Quindi I nani non hanno Grandi simboli In questa scena Sono più che altro Vabbè sono anziani E ognuno di loro Ha una caratteristica diversa Perché così E diamo a loro Una personalità A Disney Voleva a dar loro Una personalità E basta No non mi dite Quella stronzata Della cocaina Che rappresenta Gli effetti Gli effetti Della cocaina Roba del genere È inventata Anche perché Ha senso Solo in alcune lingue E a parte quello Noi sappiamo tutto Del processo di creazione dei nani Non c'entra nulla Comunque Lui si muove troppo Ha molte gag Molto fisiche Ha molte sequenze Dove lui è il povero ignorante Che non si rende conto Della situazione E Poveretto E vittima di tutti A parte un altro dettaglio Da far notare Ma ne parliamo tra un attimo Però Lui si muove così Perché i suoi movimenti E il suo modo di fare Sono citazioni Al grande cinema muto Di pochissimi anni prima Come per esempio Charlie Chaplin O Ridolini Staglio Olio Era un tipo di comicità Figlia della Gli spettacoli di Oddio Vaudeville Vaudeville Era figlio dello stile Vaudeville Che era uno stile Che veniva portato a teatro Dove la gente Esagerava i movimenti Per far ridere E quindi si muove Come loro Perché Cucciolo è l'unico nano Ad essere muto È muto Perché così è più tenero Perché è più unico Eccetera 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 Va bene Ma voleva anche essere un Guarda Ormai Queste cose Non fanno più ridere A nessuno fa più ridere Sta roba E sono tempi andati Quelli del cinema muto Il cinema muto ormai è morto Ed è morto anche grazie a Walt Disney Se Walt Disney non fosse stato così bravo con Topolino Forse il cinema muto avrebbe avuto anche Un'opportunità in più con l'animazione E invece no Ha ammazzato tutti E i cartoni animati muti Disney l'ha fatto comunque per una vita Quindi lui che fa Si comporta come i cartoni animati muti Come grande omaggio A un cinema che stava morendo Con l'uscita di Biancaneve E che Biancaneve ha ammazzato del tutto Cioè dopo Biancaneve Fare un corto d'animazione muto Era una cosa da spararsi Cioè se tu Fai un corto muto dopo l'uscita di Biancaneve E v'hai preso a schiaffi Sì hai movimenti di Charlie Cepri in cucciolo Esatto Eugenio Ora Altro piccolo dettaglio simbolico Qui possiamo vedere un simbolo che è stato cambiato Qui abbiamo a che fare per una volta Con un simbolo Che al giorno d'oggi ha un altro significato Le ciglia Le ciglia Cucciolo È un cucciolo E quindi ha le ciglia Ma da noi sono le femmine che hanno le ciglia Fateci caso Se io disegno un personaggio E ci aggiungo le ciglia È automaticamente un personaggio femminile Qui no Lui è un maschio Eppure ha le ciglia Perché? Perché sta cosa delle ciglia Che ti rendono femminile È una cosa che è arrivata da noi più tardi Soprattutto con L'animazione semplificata Della UPA O quella giapponese Eccetera Dove quindi nella semplificazione Le ciglia sono diventate un dettaglio Esclusivamente femminile Ma una volta non era così Una volta le ciglia venivano utilizzate Per rappresentare i cuccioli I personaggi che dovevano essere piccoli Carini Il personaggio più piccolo e carino E famoso della storia Che abbiamo visto così tante volte È senza dubbio Lo state per dire anche voi? Vedo se appare in chat No? Nessuno? Bravi Bravi Titti Ora Titti Tutti conosciamo Titti Tutti abbiamo visto un miliardo di volte Titti Titti è un maschio ragazzi Titti è un maschio Dichiaratamente È sempre stato maschio Cioè non è che è diventato maschio L'hanno cambiato L'hanno reso Ma è sempre stato maschio ragazzi Cioè Tutti pensiamo che sia femmina Per due motivi Primo perché è stato doppiato da un sacco di femmine Mi pare anche dalla Lollobrici Da un certo punto Vabbè Adesso è di Laria Latini Sì di Laria Latini E Beh Ragazzi Guardatelo Guardatelo Ha le ciglia Ha le ciglia Che sono rimaste come un tratto del primo corto in cui era apparso E le hanno tenute E oggi per noi quello è femminile Così come per Cuccelo Se Cuccelo non avesse un corpo chiaramente maschile Forse ci verrebbe anche il dubbio Tra l'altro Anche qui Non so come si chiama in questo coso Non l'ho mai saputo Qualcuno di voi sa come si chiama Questa specie di monocolo Che usano per Vedere dettagli all'interno delle pietre Perché Cioè Uno dei miei coinquilini è un orafo Io non gliel'ho chiesto Carpa ti apprezzo tanto per avermi detto lente Ma credo che abbia un nome più specifico Comunque è la prima volta che ti seguo Complimenti Gran Bella Live È la prima volta che mi segui in generale nella vita Non sai chi cazzo sono io Oppure è una Prima volta che ti segui in live Anziché guardare i video Sono curioso Sì anche Gerry aveva le ciglia Solo che a Gerry comunque hanno cercato a un certo punto anche di nasconderla Eccetera Mio padre lo chiama monocolo Bene Allora lo teniamo monocolo Me la provate monocolo? Prima live E non ho visto tantissimi video Ok ci può stare Ci può stare Ma spero che piaccia comunque questa live Ora Loro cantano mentre tornano dal lavoro Perché In generale Una volta Molto più di oggi Si cantava mentre si lavorava Sorpresa Altra cosa che non sapevate Qui sembra che i nani Semplicemente Cantano per i cazzi loro In realtà Una volta C'erano dei canti Vediamo se c'è un video che lo spiega Nel senso Sono sicuro che ci sia un Aspetta 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 Vediamo 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 No Non saprei nemmeno che cosa cercare purtroppo Ma praticamente Quando si andava a bordo delle navi Per esempio C'erano spesso delle canzoni Che utilizzavano il respiro E il ritmo della canzone Per dare il ritmo serrato a tutti i lavoratori Quindi cantavi mentre lavoravi E tu avevi che ne so Yo Ho Presente Per prendere la La corda E tirare E tutti lo facevano contemporaneamente Grazie alla canzone C'era il ritmo Quindi Ritmo tutti assieme Ritmo tutti assieme E si manteneva il ritmo È un po' come il famoso Oh issa Oh issa Però c'erano intere canzoni Lo facevano tantissimo I naveganti Lo facevano tantissimo Si chiama monocolo d'aureficeria Grazie mille Come le canoie dei cordari O dei gondolieri Vediamo Ma di sicuro i gondolieri Avevano una cosa del genere Vediamo 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 Posso mostrarvi qualcosa No Diventa difficilissimo No Mi dispiace Ora C'era questa cosa appunto Di cantare Mentre lavoravi Per mantenere il ritmo Ce l'avevano anche le davandai Che avevano un sacco di canzoni Per lavare tutte assieme Con il giusto ritmo Eccetera Aiutava tantissimo Cantare e lavorare Era proprio una coppia E Se avete visto Questo film In vocaise In dvd Eccetera Sapete che vi può capitare Sia la versione In cui qui c'è scritto Miniera In cui qui c'è scritto Deposito Sia la versione In cui qui non c'è scritto nulla Ed è stata completamente coperta E beh Non ci sono particolari simboli Anche qui Anche se questa scena È stata ripresa Molte volte Perché è molto iconica Loro Lavorano tutti quanti Tornano a casa Vediamo Qualche elemento Più interessante Non lo vedo ancora Vediamo Altri simboli Interessanti Stavamo parlando Di simboli Quindi Qui sono tutte sequenze Che più che altro Devono far ridere Tra l'altro Tra tutti i fiori Che potevano scegliere Che fiori hanno messo Le mimose Il fiore della donna Una cosa che loro Non avevano praticamente Mai visto E che è anche Quello che fa più effetto Ovviamente A chi è allergico Se anche voi Siete allergici Che è il polline E sappiate che la mimosa Ammazza tutti La mimosa ti uccide No Le candele con le facce Non hanno un significato È semplicemente Una cosa che si faceva spesso Per rendere le candele Più belle Ovviamente non nel medioevo Dove le candele Invece erano Un bene di primissima necessità E quindi Non aveva senso la cosa È un altro mescolarsi Di epoche Così come bicchieri di vetro O le posate O questa composizione Del tavolo Con il piatto Fondo Sopra Il piatto piano Vabbè Sorvoliamo Ci sono tanti elementi Anacronistici Qui in mezzo Ce ne sono davvero Tantissimi Vabbè Ovviamente Camera da letto Con il nano Intagliato sopra Questo basso Rilievo del nano Bellissimo Poi Poi Vediamo Qualche altro Vero e proprio simbolo Non ne vedo Al massimo posso dirvi Che ovviamente Lui ha in testa Una teiera Che guarda caso Sembra quasi Un elefante Con il naso E gli occhi Per fare in modo Che sembra un mostro E giustifichi il fatto Che loro pensino Che lui sia il mostro E non un cucciolo Però Ovvero guardiamo Ovvero guardiamo dotto Tra l'altro Io sono ancora sconvolto Che si dica dotto E non dotto Ma Guardiamo dotto Dotto Ha gli occhiali Perché Ha gli occhiali Perché Nella nostra cultura La persona Con gli occhiali Più intelligente Ma non ha senso Perché da noi Tutti nerd Le persone più intelligenti Eccetera Hanno gli occhiali Non è vero Nel mondo reale Ma mai nella vita Cioè nel mondo reale Non è per nulla vero Anzi Se dobbiamo andare A prendere la percentuale Nella percentuale Di persone Che hanno Una forma di ritardo O altri problemi In generale Hanno un'alta probabilità Di avere anche bisogno Di gli occhiali Quindi dovremmo Fare quella di associazione No Nessuno la farebbe mai St'associazione Eppure perché Pensiamo sempre Che quelli con gli occhiali Siano più intelligenti Cioè non sono persone Con una laurea Non sono persone Che per avere gli occhiali E hanno dovuto fare Qualcosa in particolare Beh Mi pare perché Solo i nobili Potessero permettersi In antichità Non sbagli del tutto Perché in realtà C'è un'altra cosa Che sui nobili E i ricchi Potevano fare Leggere Ora C'erano due problemi Primo Se tu sei povero E non sai leggere Non ti serviranno mai Gli occhiali Cioè a meno che tu Non sia cieco Anche se vedi sfocato Non ti serviranno mai Perché non devi leggere Non è che devi montare Con Da Vinci al computer Non devi mai leggere Nella vita Non ti serviranno mai Che cazzo te ne fai Degli occhiali A meno che tu Non facci il cacciatore Allora vabbè Sei un pessimo cacciatore E basta Ma non Non ti accorgerai mai Nella vita Di essere miope Se tu vivi nel medioevo E sei un fottutissimo contadino Un ricco Se accorge di aver bisogno Di gli occhiali Quindi primo dettaglio Solo I ricchi Che studiano Possono avere gli occhiali Chiunque altro no Secondo Un sacco di persone Leggevano così tanto A luce fioca Di una candela Che si rovinava la vista E diventavano presbiti E quindi avevano bisogno Degli occhiali Tutto lì Tutto lì La presbiopia Ha cambiato tutto Le persone mettevano così tanto Sotto sforzo gli occhi Che il cristallino Si irrigidiva precocemente E quindi avevano bisogno Degli occhiali Nix che dice Che ne sa qualcosa Mi dispiace È quello Tutto lì E quindi noi abbiamo Mantenuto questa associazione Dopo centinaia di anni Dove la persona acculturata Ha gli occhiali Capite che questo simbolo Ce lo portiamo avanti Da così tanto tempo E vorrei ripetere La cosa che ho detto Inizio live Vi rendete conto Che sta cosa Yumika me la sono inventata E credo che Sia difficile Che qualcuno di voi Dica No Nessuno fa l'associazione Intelligente Al loro occhiali Ogni nano Ha bisogno Di una caratteristica Che lo rende riconoscibile Lui è dotto Qual è la sua caratteristica Gli occhiali Semplice Poi Hanno tutti la barba Ma non i baffi Perché così Non sembrano tutti Babbo Natale Tutto lì Vi rendete conto Che i baffi Qui fanno la differenza Poi certo Avrebbero anche Reso un po' più difficile Animare i personaggi Onestamente Ma Comunque Se vogliamo evitare Di incappare In altri simbolismi Per sbaglio È meglio Che i baffi Non ce li abbiano Ok Grazie a Zubbio Per l'abbonamento Poi Abbiamo Brontolo Brontolo Ha due elementi Due elementi Che lo rendono Riconoscibile Elemento numero uno È vestito di rosso E potreste dirmi Anche voi E vabbè Ma anche Dotto È vestito di rosso Infatti Vestirsi di rosso Non basta Però sapete che Rosso è un colore Che viene associato Ad essere iraconde L'ira è rossa Rosso di rabbia Avete presente? Bene La barba La barba punta Ragazzi La barba punta Perché la barba punta Dovrebbe essere un simbolo? Elementi di character design Nel character design Ci sono alcune cose Che sono simboliche Per esempio Il triangolo Il triangolo È un elemento Che fa sempre parte Di ciò che ti rende Cattivo Vado a prendere un esempio Vediamo Sono sicuro Di avere Da qualche parte Aspetta 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 No Non era qua Dove potrei averlo messo? Datemi un secondo Adesso ve lo trovo Io vi prometto Che ve lo trovo Perché sto cercando Uno studio Di un character design Di un personaggio Oh Ma di sicuro Io ce l'ho su telegram Aspetta un attimo Che da telegram Ve lo recupero Aspetta un attimo Aspetta un attimo Aspetta un attimo Io sono sicuro Che posso tirarlo fuori Sì Ce li ho tutti Ce li ho tutti Ce li ho tutti Ok ce li ho Perfetto Ce li ho Che bello Quando trovo subito Le cose Perché mi ricordo Dove stavano Si vedono Un numero di telefono E effettivamente si vedono Aspettate che correggo E adesso non si vedrà mai più Un numero di telefono Perfetto Studio del character design Di Jafar Eh sì Eh sì Questo è un vero studio Del character design Di Jafar Ora ci sono tantissime cose Di cui parlare All'interno di questo character design Ma se ci fate caso Punto 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 Triangolo Angoli degli occhi Naso Triangolo più piccolo Ci sono delle punte Che puntano Tutte quante Verso il triangolare Le sopracciglia Triangolo Triangolo Perché sta fissa Per il triangolo Perché il triangolo Rappresenta il male Chi c'è di male nel triangolo E soprattutto Chi di noi ha mai pensato Al triangolo come il male Ma è molto semplice Nel character design Il cerchio Viene associato Alla dolcezza Quindi è qualcosa Che ci rimanda Ai frutti Per esempio Ai seni Alle persone Grasse Che quindi non è Probabile che Possano essere molto Attive nell'inseguirci A farci del male Ricordano il sole La terra La casa Il fuoco Il cerchio intorno al fuoco Insomma Sono tutti elementi Molto piacevoli Tranquilli Il cerchio Non è quasi mai pericoloso Sì lo so Che c'è anche la palla Che insegue Indiana Jones Ma capite Che è un'eccezione E il fatto Che sia un'eccezione Conferma la regola Al contrario Il triangolo Viene associato al male Per chi lo chiedesse Quadrato uguale Stabilità Forza Resistenza Casa Montagne Rocce Il triangolo Noi lo associamo Ai predatori Prendiamo un gatto Orecchia punta Naso A triangolo Cerchiamo l'immagine Di un fottutissimo gatto E facciamo le cose per bene Ok Vediamo 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 Aspetta Perfetto Questa è proprio L'immagine giusta Bene Guardiamo un gatto Ok Ci avviciniamo un pochettino E lo guardiamo per bene Naso Triangolare Muso Triangolare Orecchie Triangolari Devo specificarvi Che anche gli artigli Sono triangolari Questo continuo Rimando del triangolo Fa in modo Che noi a un certo punto Associamo il triangolo Al predatore Tutti i predatori Se ci fate caso Hanno delle forme Che tendono più al triangolare Poi ci sono delle eccezioni Sì va bene L'orso Non è triangolare Però lo squalo Sì Però il lupo Sì Però la tigre Sì E avanti così Se ci fate caso Se un gatto Deve essere buono Si cerca di renderlo Meno triangolare Ovvio Non è una regola Sempre valida Per forza Però è una base Più il triangolo È evidente Più il personaggio Sembra cattivo Grazie a KGI Beat Per l'abbonamento Ricordatevi Che tutti Voi abbonati Avete diritto Al gruppo degli abbonati Lì ogni tanto Racconto queste cose O mi potete fare domande Più dirette E simili Ogni tanto Do anche qualche film Magari introvabili Doppiaggi reari O roba del genere Ora Parlando di questi personaggi Se li guardate per bene Vedete che Sono tutti quanti Tondeggianti In realtà Tendono ad essere Tondeggianti Perché devono essere positivi E quindi fa quasi strano Vedere che è così triangolare La barba Di Brontolo Se ci fate caso Essendo lei la protagonista I triangoli qui vanno evitati Sotto ogni punto di vista Qualsiasi cosa Non deve Niente deve sembrare triangolare Mai Mai Cosa che invece non vale per la regina Che ha già solo il colletto Che è più triangolare Rispetto al suo È bellissima sta cosa Comunque sì Questa era una breve lezione Di character design Ma era molto limitata Non parlerò più che altro Del character design Di personaggio Era giusto per dirvi Ehi Ancora simboli Poi sì La scena in cui loro Devono andare a lavarsi le mani Ne abbiamo già straparlato Non credo che serva Aggiungere nulla Bellissimo però Bellissimo Picchi d'animazione Picchi dallo studio Delle scene Saponette Ovviamente Saponette La luna piena La luna piena Fate sempre caso Alla fottutissima luna La luna è talmente Densa di significati Di cose che dovrebbe rappresentare Eccetera Mamma mia Cioè la luna è sempre La prima cosa da osservare Quando avete a che fare Con un film che deve avere significati Nascosti o altro Perché luna piena Luna nuova Gobba ponente Gobba levante Tutto il resto Sono tutti modi Per studiare Il significato Di quella luna In quel momento Ora la luna piena È quella abbastanza basilare Quasi sempre La luna è piena Ma perché è fottutamente Più bella Tutto lì È più bella Non c'è niente da fare È molto più bella Qui però Sappiate che La luna piena È anche il momento In cui I frutti sommatori E Qui potete notare Che c'è una cosa Che Qui dite Ah tipico Degli errori dei film Bene Gli errori dei film È un canale Che spesso cita Errore dei film Qui quel canale Direbbe Eh no L'abbiamo già vista Queste inquadrature Gli alberi Non erano così Ve li ricordate Gli alberi Nella scena iniziale Questa qua No c'ero quasi Sbagliata di pochi frame Però Guardate gli alberi Non sono gli stessi alberi Sono cambiati Perché sono cambiati gli alberi? Ora Non credo che ci sia un significato Specifico Eravamo 48 prima Non credo che ci sia un significato Specifico Sul singolo albero O altro del genere Semplicemente Questi sono alberi Più da parude Quindi danno Un'atmosfera Più lugubre All'ambiente Tant'è vero Che gli alberi Coprono persino il villaggio Per fare in modo che non si veda Sul fiume si è alzata della nebbia Il castello è interamente contro luce Con questa lucettina cangiante Per dirti Ok stiamo per entrare in questa stanza Nello specifico E infatti è quello che succede Sempre camera multipiano Disney ci si masturbava Con la camera multipiano Io sono convinto che entrasse in quella stanza Iniziasse a segarsi tantissimo Perché non è possibile Ah ma È considerata la più grande invenzione di Walt Disney Sta cosa Ma è bellissima È bellissima Mamma mia Tra l'altro anche qui Credo che ci sia una torre in meno Lei tutta felice Che parla allo specchio Ah no Mi hanno dato Il cuore di Biancaneve Perché proprio il cuore di Biancaneve È la cosa più pura di Biancaneve La purezza sta nel cuore Lei avrebbe detto il cervello Se avesse voluto l'intelligenza di Biancaneve Avrebbe detto Che ne so Stavo per dire cose brutte Ma Sì Cioè Nella fiaba però non è un cuore Ma è ovvio che nella fiaba non è un cuore Perché nel 1800 Il cuore non era ancora Considerato così tanto A inizio 800 Siamo nel 1812 Quando i Grimm scrivono Le fiabe del focolare Però Lei Qui Scegli il cuore Perché siamo negli anni 30 Siamo nel 37 E quindi Il cuore è considerato ormai Il centro di tutte le emozioni Il centro della purezza Tu in realtà sei la persona che sei nel tuo cuore Roba del genere Mi era venuto in mente l'utero ragazzi Mi era venuto in mente l'utero Che diamine gente Perché volete farmi dire le cose brutte Ora Lei si rende conto che in realtà È il cuore di un cinghiale Si specifica cinghiale Per due motivi molto semplici Perché così si specifica Ok un cuore c'era davvero Era credibile Ma non era di biancaneve Quindi lei c'è cascata Secondo Non poteva essere il cuore di un cerbiatto Perché il cerbiatto Me l'hai presentato come un animaletto carino Cinghiale non è mai apparcio Quindi quando mi dici cinghiale Non è che studi a pensare Oh no il cacciatore ha ucciso uno degli animaletti amici di biancaneve È un altro animale Un altro Sempre credibile Ma un altro E meno carino Ora Lei qui è infuriata E da quale animale è circondata lei? Non dalle colombe Non dagli scogliattolini I ratti Lei è circondata dai ratti Bene Lei scende i piani inferiori E è Per un secondo Si vedono cadaveri È molto lugubre come film Questo rispetto ad altri film Disney Se andate a prendere anche solo Chi ne so La bella addormentata nel bosco Non vedrete così tanti cadaveri Su schermo Scheletri veri e propri Eccetera Perché Questi erano anni In cui Spaventare i bambini A morte Era considerato più che lecito Se andiamo già solo Vent'anni dopo Con La bella addormentata nel bosco La percezione è diversa E si pensa molto più al Ok forse non è il caso Di esagerare Con lo spaventare i bambini Non rendiamo l'assassino Non mettiamoci dei cadaveri Ora Seguendo i ratti Noi seguiamo anche lei Che sta scendendo dalle scale Eccetera 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 Molto carino Molto bello Lei ovviamente come animale Ha l'opposto di una colomba Il corvo Corvo che qui serve Per fare in modo Che i bambini siano interessati Perché questa è una scena Molto dialogata E quindi servivano Dei momenti In cui ci fossero animali Perché i bambini Interessano tantissimo Gli animali Cioè è il motivo Per cui i film come singa Non hanno protagonisti umani Ma protagonisti animali Perché se tu ci metti Gli animali I bambini sono interessati Se non sono animali I bambini non sono interessati Per quale motivo? Perché se io ti parlo Del Facciamo un esempio con singa Se io inizio a parlarti Del fatto che ci sono I neri Che vengono associati spesso Ad essere Delle persone brutte E cattive Quindi c'è il ragazzino Che essendo nero Ha paura di essere associato A suo padre Perché suo padre È un malfattore Il bambino Si annoia Se tu ci metti Che ha un gorilla Basta Capito I gorilla sono più violenti Sono più spaventosi E quindi ti rendi conto Che il gorilla Farà più paura del maialino Risolta E quindi il maialino Può essere una mamma Con i suoi tanti bambini maialini Tutto lì È tutto qui Non c'è altro È quello Più tu ci metti animali Più i bambini sono interessati Perché gli animali Li leggono facilmente Quindi La strega è un corvo Tu capisci che la strega è cattiva Tu capisci che il corvo È il suo animale E inizia a seguire il corvo E vedi che se il corvo È spaventato Allora anche tu bambino Devi avere paura con il corvo Così funziona un film D'animazione È il motivo per cui ci sono sempre Sti animaletti Nei film Disney Perché Disney di questa cosa Se n'era accorto E quindi mettermi un animale Mi permetteva di avere un filtro Su quello che succedeva Riempirmi la casa di Pinocchio Di animali Significava rendere la casa Più accogliente Anche se era abitata solamente Da un padre e suo figlio Quindi in realtà È un padre solo Cioè Pensate a Pinocchio In Pinocchio Noi abbiamo una sequenza Di 20 minuti Dove c'è un vecchio Che sta delirando Per i cazzi suoi Tutti gli altri personaggi Non sono reali Sono il suo gatto Il suo fottutissimo pesce rosso Un pezzo di legno E una fatta Che lui si è immaginato Sarebbe di una tristezza devastante Se non lo avesse riempita Di animali Quella casa E invece C'è la riempita di animali Ci ha messo il grillo Ci ha messo il gatto Ci ha messo il pesce In modo che sembri bella piena E sembri una bella famiglia In cui Pinocchio vuole vivere Ok? In caso contrario È un vecchio che sta delirando È così che cambi il linguaggio È per quello che io vi dico Che La stessa identica storia Può diventare anche un horror Io posso raccontarti La stessa storia di Pinocchio Rendertelo un horror Se solo io ti ricordo Che lui è un vecchio Che sta parlando da solo E sei già terrorizzato Ora Lei Qui entra In questa Cioè In questo mondo Di ampolle Come si chiamano Questi estrattori Non mi viene il nome Non mi viene il nome Sai di fatto che Lei entra nel suo laboratorio E qui diventa chiaro Che lei sia una strega Lei ha dei libri Ha dei libri Altra cosa che io Adoro tantissimo E sui libri E sono scritte esattamente Le materie in cui lei Le arti In cui lei È esperta Ora Leggiamoli per bene Veleni Quindi sappiamo Che questo è il libro Che le tirerà fuori Più tardi Per la mela Stregoneria Non credo che serva Dire nulla Stregoneria E Negromanzia Sono due cose diverse Witchcraft È più stregoneria Sorcery È più Surtilegi Sorcery È più Surtilegi Arti nere Alchimia Astrologia Io adoro astrologia Adoro che astrologia Stia qui Cioè io mi immagino lei Che arriva da Bianca Eve E le lancia la maledizione Di essere saggettario Ascendente cancro È bellissimo Comunque Allora Veleni Sortilegi Magia nera Stregoneria Alchimia Arti nere E astrologia Sono tutti Campi Meravigliosi E sono tutti Accompagnati Da un simbolo Mi uccide Questa cosa Tipo Arti nere Veleni Non sapevano che cosa Metterci Ma astrologia Come simbolo Le stelle Alchimia Come simbolo È giustamente La bilancia Nell'alchimia Ovviamente Si usava tantissimo La bilancia Alchimia Vi ricordo Che è quella Della pietra Filosofale Alchimia Era quella Che un tempo Era chiamata La chimica Ovvero Il Avere il controllo Delle materie Del mondo Bellissimo È bellissimo Poi Magia nera È letteralmente L'avere a che fare Con I cadaveri I sortilegi Cioè Magia nera È proprio Il riporto In vita Cadaveri Porto la peste Al mondo Eccetera Roba del genere Che triangolo Hai visto Quale triangolo Cioè Sentiene dire sulla mano Sì Complimenti Negromanzia Appunto Negromanzia Come avevo detto prima Poi Sortilegi Sono letteralmente Le cose Che tu lanci Su qualcun altro Il sortilegio Per esempio Del d'ora in poi Dovrai ballare Per sempre Sono punizioni Poi Stregoneria Sono Tutte quante Quelle cose Che vanno Contro L'idea Di Dio Quindi Per esempio Darte l'immortalità Roba del genere Quelle cose Che darebbe Satana Il concetto è quello Strega nel medioevo Associato a Satana È quello Il concetto Ciao Ho appena finito Da poco Gli esami universitari Quindi Non sono passata Per nulla Non sono passata Per nulla Su twitch Comunque Ti ho incontrato Al comicon Sei una persona Fantastica Che tira A fare sempre Di più Sei grandioso Grazie Grazie Ready Star Per i bit Grazie mille Grazie di cuore Comunque sia da un po' Che non li legge Cioè È comunque roba Che non è che Le serve Poi così spesso Alchimia Controllo Degli oggetti Astrologia Leggere il futuro Guardando le stelle Sì lo so Era una battuta Quella di prima Sull'oroscopo Astrologia Non è solamente L'oroscopo Sappiatelo Ok La gente pensava Oh no Sta per arrivare una guerra Perché Marte Sta facendo qualcosa Di strano Era quello il concetto E poi Ci sono le arti nere Che è una Parola un po' Troppo generica Dovreste aiutarmi voi A capire Che cosa dovrebbe significare Cioè Perché sto pensando E cose tipo L'Homunculus Dovrebbero considerarsi Sia arti nere Che alchimia Non lo so E poi Disguisis Trasformazioni I modi per fingere Di essere qualcos'altro Ovvero Trasformare se stessi Per non essere riconosciuti Non essere catturati Eccetera Ok Sono più che sicuro Che ci sia Un significato Che torna spesso Nel No No Noi Nel testio Con Il Sarpente Qualcuno di voi Sa il significato Di questo Perché io Non ho un dizionario Di simboli Sottomano E prima di cercare Su google È meglio chiedere a voi Nel frattempo Cerco anch'io È il teschio È il teschio di Adamo Sì sono abituato A vedere il teschio di Adamo O sul calvario O sotto i piedi Di Gesù Cristo No non è l'Uroboros L'ho trovato Abbastanza facilmente In realtà Ok È il teschio di Adamo È ragionissima Sì Arte nere Simboli esoterici Di sicuro Demoni Creature malvagie Come Eset E Arigma Arigman Arigman Non so Questo secondo Non lo conosco Comunque sì Mi confermano Anche qui Che il teschio Il serpente Che si avvinghi al teschio Indica conoscenza E immortalità Conoscenza e immortalità Abbastanza azzeccato Sì Direi proprio di sì Comunque procediamo Lei apre il libro E spiega Ad alta voce Quello che è il suo piano Ovvero rendersi brutta Per non farsi riconoscere Ora È vero che Giustamente Ci deve essere Della logica Perché è un film E in quanto film Bisogna mantenere Questa idea logica Ma Ma Sappiate che Da un lato c'è la logica Dall'altro il simbolo Qualcuno di voi Potrebbe dire Ma scusa Se lei si può rendere più brutta Perché non si è resa più bella Non avete capito Un cazzo Il motivo per cui Lei si rende più brutta È simbolico Lei non può rendersi più bella Perché il punto qui È trasmettere un significato ai bambini Ovvero Lei è bella Ok? Biancaneve è più bella di lei Lei si infuria E dice E no Non puoi essere più bella di me Quindi la vuole uccidere Essere cattiva E quindi voler uccidere qualcuno Ti rende più brutta È quello il punto Lei diventa brutta Perché brutto uguale cattivo Bello uguale buono Lo so che al giorno d'oggi Diciamo No, non è così Va bene Ma il simbolo No, solo ai tempi era così Ma nelle fiabe è questo Nelle fiabe la bella e la bestia funziona così Che poi amore e psiche E tutto il resto C'è amore e psiche Non è che ti descrivono psiche Dicendoti È la donna più bella del mondo Per dirti che è bella e basta È per dirti che è bella e buona C'è l'associazione Bella e buona Ok? Quindi è un sinonimo Della bruttezza interiore Esattamente Lei diventa brutta Perché per Voler uccidere Biancaneve Significa che tu in realtà Sei brutta E infatti Il motivo per cui Lei in realtà È più brutta di Biancaneve Non è estetico Ma è il fatto in sé Che lei voglia ucciderla Lei non è buona E quindi essendo cattiva Non sarà mai più bella di Biancaneve Perché la bellezza accompagnata La bontà Vale molto più Che la bellezza accompagnata La cattiveria Poi vabbè Qui abbiamo ovviamente Questa statua bellissima Con tanto di teschio Che Non lo so È bellissimo È bellissimo Ora Lei che parla del Tramutare il suo regale Manto incenci Qui Gli ingredienti Sono tutti quanti Ingredienti abbastanza generici Non pensate che Sia Qualcosa di specifico Tra l'altro Questo testo Lo trovate anche in italiano Nella vecchia versione Potete trovarla in 16 mm E a tutti i testi in italiano È bellissima Però Sì Non c'è un significato specifico Cioè Polvere di mummia Veniva effettivamente utilizzata Il nero della notte Il ghigno di una strega O la cachinna di strega L'urlo di paura Eccetera eccetera Sono tutte quante cose Che effettivamente Sono lì Per quel motivo Vorrei chiedere a qualcuno Se sa il significato Di questi Di simboli piuttosto Sono queste Che mi interessano di più Vorrei saperle leggere Perché vabbè I numeri romani Non è che ci vuole un granché Ma sono unità di misura Che cos'è il nero della notte Letteralmente il nero della notte Cioè Il nero Che c'è di notte Sono ingredienti impossibili Però L'idea è Lei è una strega Quindi questi ingredienti Li può usare Sì Lo so che saranno le quantità Ma non sono simboli normali Per le quantità È cacchino di strega È cacchino di strega Questo È risata di strega Ghigno di strega Comunque no Gli euro non c'erano Caso mai qualcuno avesse dubbi E leggiasse quel commento E dicesse Ok sono chiaramente gli euro No ragazzi Sembrano i simboli Dei segni astrologici Sì Lo sembrano Ma non lo sono So per certo Che questi non lo siano Anche perché Questa Questa m Non è un m Di un simbolo astrologico Mi spiace Purtroppo qui Non sono preparato Oh giusto Vorrei sottolineare A tutti quanti Che formula In inglese Si dice formula Formula Però formula Comunque Sono alcune Alcune delle tante parole italiane Che loro utilizzano Senza sapere che sono parole italiane Comunque Nero della notte Cacchino di strega Tutte cose fatte abbastanza a caso Ok Sono tutti oggetti Che venivano utilizzati In alchimia O anche in chimica Effettivamente E sono usati un po' a caso Ok I simboli sono più che altro Per creare tensione Qui Ma non ci sono simboli Specifici Che dovrebbero significare qualcosa Lei che si riflette Per farci capire Che sta per cambiare aspetto Niente di particolarmente impegnativo Ora Lei a questo punto Ottiene L'effettiva rappresentazione Della strega Se volete sapere Qual è la storia Del simbolo della strega Ci ho già fatto un video Sulla Sulla storia delle streghe E perché Vengono rappresentate In questo modo Se ci fate caso Lei ha tutte le caratteristiche Tipiche della strega Posso giusto aggiungervi L'assenza di denti Che è legata Alla vecchiaia E la verruca Giusto per renderla Un pochetto più brutta Tutto lì Ok Come l'euro è uno scrupolo Che significa Comunque Qui lei decide Di lanciare La mela La logica Qui Io utilizzo la mela Nonostante tutto Perché la mela Tanto lei la mangia Poi cade a terra Tutti pensano che è morta Tanto non si può svegliare I nani non sono Il suo vero amore E basta La seppelliscono Andata E invece loro la fregano Perché poi non la seppelliranno Questa scena Non ha simboli o altro Loro stanno ballando Si stanno divertendo E basta Tutta tranquillina Cioè Ovvio Qualcosa da qualche parte C'è Ma finisce un po' lì Famosa scena Degli applausi Riciclata In Robin Hood E scena del ballo Riciclata in Robin Hood E riciclata negli Aristogatti Biancaneve che prega Non si sa chi Va specificato anche questo E all'interno Dei film Disney Si prega sempre una stella Quindi qualcosa che sta su in cielo Ma non si specifica mai che cosa Però Comunque Disney non è molto esperto E quindi prende sempre delle pose Da preghiera abramitica Quindi A pregare così Sono praticamente solo i cristiani Con questa posa specifica E quando cerca di non mettere le mani con certe Comunque non si sposta mai Da una religione abramitica Ok Qui sto usando VLC Che è l'unico in grado di leggere questo file Perché è un'estrazione del Blu-ray Del Blu-ray americano Quindi non c'è il doppiaggio italiano qui sopra Ora Tutto quanto è bello tranquillo Questa è la quieta prima della tempesta E si arriva alla scena della mela La strega qui Crea la mela E la mela Ebbè Uno dei simboli più belli Primo Ovviamente Deve creare un teschio Per farci capire Che è una mela mortale Ok Se non avesse Questo aspetto Questa forma Non la leggeremmo Come una mela così pericolosa Dopodiché diventa una mela Ed è anche bella rossa Perché la mela è bella rossa? Perché deve essere appetitosa È una tentazione È la mela del peccato originale In latino Mela Melum Che somiglia tanto a malum Melum Malum Mela somigliava a male Come in italiano Mela male Mela male Mela E quindi Il frutto del male Il frutto della conoscenza Eccetera 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 Il frutto proibito Viene sempre rappresentato come una mela Nella Bibbia Non è una mela È solo un frutto Generico Un frutto Ok Generico E perché Dio dice Non mangiare della mela Del bene e del male Eccetera È per dire No Non essere curioso uomo Non andare a cercare di conoscere Tutto quello che io so Accontentati dell'ignoranza Che ti ho dato Perché se tu scoprirai La verità La verità è che nel mondo C'è sofferenza E la verità è che esiste la sofferenza Tu non la scoprirai mai Non essere curioso di scoprirla È meglio che tu non sappia mai Mai che esiste Che è quello che succede Con i bambini in realtà Vi presento il peccato originale Ovvero il bambino Che nasce in un mondo Dove lui è convinto Che tutti siano buoni Tutto va bene Tutto è bellissimo Non esiste la violenza E poi scopre che il mondo E poi scopre che il mondo è marcio I frutti e le piante Con colori più accesi Sono quelli velenosi In genere Ni 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 Credo che sia un discorso Un po' più complesso Però La simbologia degli altri due oggetti Il fatto che lei è buona Tutto lì Un concetto molto semplice Ed dannatamente spaventoso E beh Best personaggio allo specchio Sì magari in Shrek Qui era un bellissimo personaggio Ma non funzionava Ovviamente la mela rossa È una sola E Io vi giuro Anni fa Anni fa Credo fosse il 2017 2018 Fece un video Chiamato 100 curiosità Su Biancaneve E una delle curiosità Era giustamente Quel teschio Ha un nome Ha un nome Nella sceneggiatura Di Biancaneve C'è il nome del teschio E il teschio Si chiama Oswald Cioè questo scheletro Si chiama Oswald Ora È curioso È molto curioso Che questo scheletro Si chiami Oswald Visto che il primo cartone animato Fatto per la Universal Di successo di Disney Era Oswald Il primo cartone Di Walt Disney Era le strade di Kansas City Un'altra cosa Il secondo Erano Alice's Comedies Con Alice Ma Qui abbiamo Oswald Nello specifico Ovvero il cartone animato Che la Universal Rubò a Disney Curiosissimo Che tra l'altro Al giorno d'oggi La più grande rivale di Disney Sia Universal Di nuovo Se Universal Se ne è stata Zitta Zitta Per cent'anni E al novantesimo Compleanno Come fosse La maledizione Della bella addormentata La Universal Al giorno adesso Rompe il cazzo La Disney Bellissimo Grazie Savar Per l'abbonamento Grazie mille E Oswald Ma la domanda Che io feci in quel video È Perché Oswald Cioè Perché sto scheletro Si chiama Oswald Era una frecciatina Di Disney Tipo per dire Vabbè Voi vi siete presi Oswald Ma tanto Oswald Ormai è morto E sto figlio Sta uccidendo O c'è un motivo Cioè Non mi torna Non era tipo Da frecciatine Disney Cioè Se davvero Questa fosse stata Una frecciatina Questa sarebbe L'unica frecciatina Della storia Della Disney E comunque Perché metterla solo Nella Nel copione O era uno scherzo Interno alla Disney Che poi ne è uscito Però gli scherzi interni Sono partiti con Bianche Bernie Che Disney Era già stramorto Non è roba Da Disney questa Che cazzo è Sta roba È stranissimo Però vabbè Vi ho raccontato Una cosa Che poi Anche l'interazione Del Hai sete Quindi tira un calcio All Cioè È tristissima Sta scena Perché significa Che lui è morto Di sete Lui si cercava Di raggiungere La brocca Probabilmente Lei ha lasciato La brocca Apposta per lui E la brocca Ormai ha avuto Il tempo di evaporare Cioè D'acqua non ce n'è più Dentro C'è un ragno Incredibile Questo è per rappresentare Ovviamente La cattiveria Della strega E renderla spaventosa È anche il motivo Per cui non esce Dall'uscita principale Ma deve uscire Ovviamente Nella nebbia E muoversi Come caronte No Non è una vera Accettazione a caronte Questa È solo un caso Lei si deve muovere In una palude Hanno scelto la palude Perché disassociava Le paludi Ai posti brutti Spaventosi Tristi Eccetera 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 Lei qui deve sembrare Brutta e cattiva Deve quasi ricordare La morte Quindi fa così Lo fa anche caronte Ma non credo Avesse mai pensato Oh mio dio Voglio fare proprio caronte Altrimenti ci avrebbe messo Anche due monetine Da qualche parte Ma la Disney Ha pensato di rilanciare Il personaggio di Oswald Sì Non solo l'ha pensato L'ha anche fatto Con Epic Mickey Ha funzionato abbastanza bene Devo dire Comunque se ne vanno I nani E la lasciano a casa Va bene Altro simbolo Con ovviamente Mammolo che arrossisce Tutto tranquillo Tutto va bene La strega Da chi è inseguita Indovina un po' Questo È il presagio di morte Meno tedesco Che potessero inserire Ricordate Questo è un film Americano Quindi Avvoltoi Un animale Americano Che rappresenta la morte Gli avvoltoi Rappresentano la morte Perché sono animali Che mangiano le carcasse Quindi Che succede Nel mondo reale Quando tu stai per morire Gli avvoltoi Iniziano a volare su di te Comunicano l'un l'altro Attenti C'è un cadavere fresco Perché più sei fresco Più sei buono Più sei arancido Più non sei commestibile Quindi loro Sono lì ad aspettare Che muoia qualcuno Perché E seguono la strega Per due motivi Perché sanno Che con la strega Arriva la morte Che potrebbe essere Quella di Biancaneve Ma in realtà Stanno seguendo la strega Questi sono simboli In modo che sappiamo Che questo è un presagio Di morte E aumenta la tensione Di questa scena Tra l'altro Loro due che si guardano E sorridono Per dire E stasera si mangia È arrivato Deliveroo Lei ovviamente Prepara una torta Che deve essere Per i nani Tra l'altro Qui ci scrive Brontolo Nella Vecchia versione italiana Quella del Trento Del 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 Trentotto Non c'era scritto nulla Comunque Lei arriva E non entra in casa Si presenta alla finestra Che bella Che belle torte Vuoi fare una torta di mele Io ho una mela Che è buonissima Assaggiala E cerca di fare la tentazione Poi qui si crea tensione Con gli animali Che cercano di salvare Biancaneve Eccetera Ma non ha un significato simbolico Di nuovo Sono solo animali Che cercano di salvare Biancaneve La mela Lei chi si avvicina Cercando di renderla Serpente Ragazzi Serpente Eva Che casca nella mela Finchè lei Non le dà un morso E casca a terra Ovviamente La morte Non viene mai mostrata Quindi tu intuisci Che è cascata Grazie alla mano E basta Perché bisogna essere Anche delicati Con i bambini E Disney Questo è politicamente corretto Ok Questo è politicamente corretto Solo che ci siamo Così tanto abituati A sta roba Che ormai Chiamiamo politicamente corretto Solamente fare Biancaneve nera No Anche questo lo è Mi spiace Comunque Tempesta Perché la tempesta Questa è una cosa Sempre valida nei film Preparatevi Sempre Le probabilità Che in un film Piova per caso Sono bassissime La pioggia Significa sempre O che sta per arrivare A un grande cambiamento O che siamo in un momento Di tristezza Fine Quindi o deve richiamare Le lacrime O deve richiamare Il fatto che questa è acqua Quindi pulizia Sono questi due In qualsiasi film Perché sta roba Arriva dalle fiabe E l'abbiamo talmente Interiorizzata Che la facciamo sempre Sempre È un po' come gli anime Che tutte le volte Dell'episodio Finisce al tramonto Secondo te perché Finisce al tramonto È la fine di un'avventura La fine di una giornata Quindi la fine delle cose Sempre al tramonto Fine Sempre Regola L'avventura di Ascio Deve finire Finisce al tramonto Per forza Ora abbiamo La strega Che si arrampica Per cercare di salvarsi E a questo punto Ha una fantastica idea Ovvero Sono arrivata Al capolinea Devo salvarmi Alziamo un masso Che non posso alzare Questo perché I cattivi di Disney Sono sempre Sempre Neurotici Sono sempre Cattivi Che si ammazzano Da soli Mai un cattivo Disney Ci sono rarissime eccezioni Mai un cattivo Disney Viene ammazzato Effettivamente dal protagonista O viene ammazzato Perché viene sconfitto Davvero dal protagonista Fa tutto da solo L'antagonista Per Disney Era come suo padre Ovvero una persona Talmente fissata Talmente cattiva Che si distrugge da solo A un certo punto Che è anche un'ottima cosa Da dire ai bambini Perché se tu ai bambini Dicessi che i bambini Devono vindicarsi verso i genitori Organizzi una rivolta di bambini No Devi dire ai bambini Non ti preoccupare Se i tuoi genitori Sono brutti e cattivi Se c'è qualcosa Che va male nella vita Si risolverà È ottimismo Quello che vuole dare Walt Disney E sarà utilissimo In epoche come La grande depressione Con i porcellini Che guarda caso Si salvavano E di nuovo Durante la seconda guerra mondiale Tra pochissimo Con i suoi corti Bellissimo Ottimismo al massimo In più Il fulmine Punizione divina Il fulmine È la rappresentazione Tipica dell'ira di dio Prendiamo per esempio Che ne so La cacciata dal paradiso Di Giorgione Finora abbiamo parlato Della mela Ok Quindi ci sono sempre Citazioni ad Adamo e Deva All'interno di questo Di questo classico Disney Bene Andiamo a prendere Giorgione Questa è la tempesta Di Giorgione Ok Indovina come è rappresentata La furia di dio Indovina Poi ci sono anche Altri simboli qui La caduta Della età classica Perché c'è La colonna caduta Oh no La vergine Che c'ha da bere Al pombino Va bene Però la cacciata Dal paradiso Il peccato originale Eccetera L'ira di dio Che cos'è? È un fulmine Il fulmine È tutto lì Il fulmine Rappresenta L'ira di dio Anche perché Secondo la bibbia O meglio Più che secondo la bibbia Secondo la tradizione cristiana Ad essere cacciati dal paradiso Damo e Deva Sono stati cacciati Da Dall'arcangelo Che mi pare fosse L'arcangelo Gabriele Non vorrei Confondermi Ma sì Cioè L'arcangelo Gabriele È quello dell'annunciazione Però Mi pare che fosse sempre lui A cacciare Damo e Deva Dal paradiso terrestre Con una lama di folgore Ok? Mi confermate Michele? Perfetto Con una lama di folgore Ora Molte di noi Quando dicono folgore Pensano al fuoco No È un fulmine Folgore è fulmine Folgore è fulmine Quindi Dio Che dice Alla strega Detto in modo più semplice possibile Ok? È un piacere Sconvolgervi con questi messaggi cristiani Però Disney era cristiano Era convintissimo cristiano Era un conservatore Tutto il resto Quindi Non a caso Quando Biancaneve è morta Guarda a caso Capezzale Capezzale Con i nani intorno Con dei fiori E con le candele I lumi Che sono una rappresentazione Tipica della morte cristiana Devono rappresentarla così Togliersi il cappello In segno di rispetto Questa cosa Al giorno d'oggi Non c'è più Ma Una volta Quando tutti Uscivano di casa col cappello Infatti Tutti avevano la chierica Perché forse Ti teneresti i cappelli Ma andavano a puttare Il cuoio capelluto Comunque Tutti avevano cappelli Ma quando si entrava in casa Barra Quando si entrava in chiesa Barra In situazioni di Importanza Come in questo caso Funerea Legate alla vita Ci si toglie il cappello Dettaglio carinissimo Essendo che Ci troviamo all'epoca Di Walt Disney Non viene fatto niente Di femminile Una volta La morte Era una cosa Di cui si occupavano Le donne Ora Tutti quanti Che piangono Al cappizzare Di Biancaneve E tra l'altro Le loro lacrime Sono accompagnate Dalla prima candela Che sgocciola Della storia Di Biancaneve Questa candela Perde gocce Richiamo Alle lacrime Quindi tutto sta piangendo Questo rende l'atmosfera Ancora più triste Non vediamo Dove ci troviamo Non si deve vedere Che questa è una camera da letto Perché non è importante Che sia la camera da letto Qui Loro devono semplicemente Essere tristi E tu devi guardare Questa scena Dicendo Cazzo Pure Brontolo Piange Situazione triste Arcangelo Michele Non era Gabriele Era Michele No Non era Michele Era un cherubino generico Ok Vi ringrazio Non era Michele Non era Gabriele Era un cherubino generico Cherubino punto ex Ora Ovviamente pioggia Momento di tristezza Come dicevo prima E vabbè Qui Disney ha mandato Fanculo Lo show don't tell Infatti non lo farà mai più Questo è l'unico caso In cui Disney dirà Ok sì Piuttosto che farti vedere Che passa il tempo Te lo faccio proprio Uscire per iscritto E anche nella versione italiana Con il narratore Quindi rametto Per far vedere Che passa il tempo Con le varie stagioni Guarda caso Proprio in primavera Deve arrivare il principe Ora Lei si trova in una barra di vetro Perché in una barra di vetro? Dove arriva sta cosa? All'interno della fiaba È specificato già Che è una barra di vetro Ma Le barri di vetro Di fatto esistono Santi Martiri Venivano a volte Addirittura imbalsamati Tutt'oggi l'abbiamo fatto Con Padre Pio Venivano imbalsamati Eccetera Per essere esposte Perché erano troppo belli A volte anche i bambini Posso mostrarvi So che c'era una bambina In una barra di vetro Che vi giuro È impressionantissima Dio mio Mamma mia Quante Quante me ne escono Ok Abbiamo Rosalia Lombardo Ok Rosalia Lombardo È uno degli esempi più belli Perché Mamma mia Sto per mostrarvi Delle immagini Che possono essere forti Per qualcuno Ok Quindi Se non siete pronti Vi avviso io Quando sto smettendo Di mostrarle Ok Tolgo il safe search Perché altrimenti Me le censura Ma Vi presento Rosalia Lombardo La bambina è morta Quindi i genitori L'hanno voluta seppellire In una barra di vetro Questo è un cadavere Che ha cent'anni In cent'anni Un cadavere Si riduce a molto più Che a Uno scheletro Proprio è andato E Sembra Sembra dormire È una cosa Mamma mia Cioè Ti spezza il cuore Ti spezza davvero il cuore Però Alla morte della bambina Sono rimasti così male Da metterla davvero In una barra di vetro E conservarla È una cosa che si faceva È una cosa che si faceva Anche con tantissimi Cioè Una volta i cadavere Davvero venivano trattati In questo modo Fino a fine ottocento Addirittura Se tu avevi Che ne so Una classe a scuola E una tua compagna di classe Moriva La si metteva In posa Con le persone vive Con Delle Cose che Mettevano in posa Il cadavere In mezzo Ai bambini vivi Per fare in modo Che si facessero Un'ultima foto con lei Come è morta Mi pare di malattia Mi pare che fosse Con Andiamo a cercare su wikipedia Non mi ricordo Ma era una malattia Usata in È una vita che non uso wikipedia In questo modo Forse qua Ok Andata Sì Influenza spagnola Perfetto Quindi Il vecchio covid Ok Da questo momento Non la mostro più Se non siete sensibili A queste cose Potete tornare a guardare E capite che c'è Uno storico Dietro a tutto questo Uno storico Bello pesante Ovviamente Chirubini Rappresentati In preghiera Sotto alla Lei poi circondata Di gigli Ovviamente Perché i gigli Sono la purezza E tutto il resto Si torna sempre Alla questione della purezza Perché lei è pura Quindi è sempre circondata Da qualsiasi cosa Sia bianca Fiori generici Che vengono portati Al capezzale Lei dorme ovviamente Nella posa della morte Sotto a cosa Lo sapete il nome di questa pianta Vi prego Aiutatemi Non mi viene Non mi viene Glicine Grazie Glicine Altra pianta Che rappresenta Appunto La sofferenza La tristezza La morte Il compianto Eccetera 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 A questo punto Arriva il principe Di nuovo sul cavallo bianco Stesso outfit Sto principe Non si è lavato Ancora una volta E le dà un bacio Attenzione Qui abbiamo Un dettaglio Molto particolare Qui abbiamo Un simbolo Niente male Allora Primo La morte di Biancaneve Ovviamente È già di per sé Un simbolo E rappresenta L'attesa L'attesa Nella crescita Della Cioè La morte Non rappresenta mai La morte Partiamo da questo Anche negli arcani Se avete mai studiato I tarocchi Gli arcani maggiori Eccetera La morte Numero 13 Che non andrebbe mai nominata Ma La morte Rappresenta Di fatto La rinascita La fine Delle cose Rappresentata Dalla torre È la torre La vera e propria morte La morte No è una cosa positiva La morte è la rinascita Il cambiamento La trasformazione L'evoluzione Eccetera Quindi Che succede Qui si sta rappresentando Lei che ha conosciuto Il male del mondo E ora che ha conosciuto Il male del mondo È in attesa Di maturare questa cosa Quindi Do un sonno Molto lungo Il sonno Della bella Addormentata Di cent'anni Il suo sonno Non si sa Quanto dura Con precisione Probabilmente un anno Comunque Un lungo sonno Dal quale ti risvegli Con il risveglio Della sessualità Ora Il risveglio Della sessualità Nella fiaba Il risveglio Della sessualità È il matrimonio Quindi Il principe che la vede Dice La voglio sposare Poi lei Batte la terra La testa Perché cade la bara Sputa La mela E a quel punto Rinasce Perché la mela Avvelenata Non ce l'ha più in bocca La logica della fiaba è Se la mela Avvelenata Non ce l'hai più in bocca Il tuo morso Non è più lì Allora non sei più Stata avvelenata È la logica Delle fiabe Perché giustamente Non raccontano Effettivamente Come funziona il veleno Raccontano più che altro Il concetto di questa cosa Ti ha fatto male Se te ne liberi Sei libera Ma Disney Vive negli anni 30 Cambia il simbolo E dice Ma che cazzo me ne faccio io Del matrimonio E inserisce Per la prima volta Il bacio del vero amore Per chi non lo sapesse Nelle fiabe Il bacio del vero amore Non esiste È un'invenzione di Disney È un'invenzione di Disney La bella addormentata Si sveglia Perché I neonati Succhiano via La spina dal dito Della bella addormentata O in altre versioni Perché sono scaduti Cento anni Quindi che prendiate Basile Perro Igrim Eccetera Comunque O le tolgono La spina dal dito O Scadono i cento anni È quello La Biancaneve Come ho detto Sbatte la testa a terra E quindi Sputa la mela Datemi un altro Dove dovrebbe esserci Il bacio del vero amore Raperonzolo Lei piange sugli occhi del principe E quindi il principe Riacquista la vista O nella versione Disney Torna in vita Poi Che altro abbiamo Che altro abbiamo Che altro abbiamo Altre principesse di questo tipo Il principe Ranocchio Scaglia il principe Contro la parete Sì Lei Prende il controllo Del principe Ovvero della sua sessualità E quindi lui si trasforma La bella è la bestia Atto di vero amore Fine Generico Non è importante Che sia un bacio Non è importante nulla Non si specifica troppo La sirenetta La sirenetta Mi pare che si parla Di un bacio Però comunque Non è il bacio Del vero amore Devi ricevere il bacio Dal principe Nello specifico Però sì Non mi ricordo Se è esattamente Il bacio lì Però non si parla Di bacio del vero amore Sì Che la sirenetta Diventa spuma Va bene Però il concetto È lei può spezzare La maledizione Delle gambe E quindi averle Senza soffrire Se riesce a baciare Il principe Però non Non succede Però il punto è che Il patto è che Il bacio ci sia di mezzo Però non è il bacio Del vero amore È solo Il suo bacio No no Sono sicuro al 100% Che non si parli Del bacio del vero amore È il bacio Del quel principe Tu vuoi quel principe Quel principe ti deve baciare Il bacio del vero amore È nella Disney Appunto Il bacio del vero amore È l'invenzione Della Disney La bella e la bestia È già detto prima Che tra l'altro Poi è una variante Del principe ranocchio E di amore psiche Quindi siamo sempre lì Siamo sempre girando Sulla stessa E il re porco E tutto il resto Quindi il bacio La risveglia Disney si inventa il bacio E lo utilizza più volte Nelle sue storie Lo utilizza nella bella e la bestia Lo utilizza nella sirenetta Lo utilizza personalmente Perché quello che ho accettato Finora era già morto Lo utilizza personalmente Nella bella addormentata Lo utilizza in continuazione Il bacio del vero amore Quindi la principessa è salva Si risveglia dal suo sonno Tutti festeggiano Tutti sono felici E qui abbiamo un altro simbolo Ovvero loro vanno verso Il castello Dov'è il castello? Indovina? Nell'alto dei cieli Ovviamente non è per dire Che il castello in realtà È la morte O roba del genere Ok? O il castello in realtà È perché lei è morta Sta andando in paradiso E lui è il principe della morte No 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 Disney vuole mettere il castello Perché per lui il castello È il simbolo della coronazione del sogno La fantasia Eccetera Infatti l'ha scelto per quello Come simbolo di Disneyland Lo mette in cielo Solo per ritornare alla morale cristiana Ovvero Dopo tutta questa avventura In stile Adamo e Deva Ora lei ha di nuovo accesso Al paradiso terrestre Ha di nuovo accesso Alla felicità La felicità è associata al cielo Perché Disney è un cristiano E quindi lui associa Star bene Essere felice A un'idea di paradiso Vissero per sempre felici e contenti Vissero per sempre in paradiso Vissero per sempre così Non è tutto un sogno Non sono morti Ok? Ora spero che vi sia piaciuta questa cosa Se volete possiamo fare altri classici Disney così Fatemi sapere nei commenti Se volete un altro video di questo tipo Un'altra live così In cui vi spiego un po' alla volta Un classico Disney Simbolo per simbolo Ovviamente non ho fatto Tutti i simboli possibili e immaginabili Ce ne sono altri Che non ho citato E come avete visto Alcuni non li sapevo Quante persone ci sono in live? Così scelgo se fare un raid Riferimento anche al male Che non c'è più Cioè per Disney La felicità non sta in qualcosa di bello Ma sta nell'assenza del male Ok Abbiamo tante persone in live Allora faccio un raid a qualcuno A patto che partecipiate più persone possibili Ok? Che almeno facciamo un raid Bello bello sostanzioso Avete tempo per riscattarlo Se non lo riscattate voi Scelgo io eh Vediamo Che intanto preparo Però sì Ne farò altre Visto che vi è piaciuta così tanto Mi diverte Anzi Magari non faccio Classici Disney in ordine Magari ne scelgo Ogni volta uno diverso Fatemi anche sapere Quale vorreste sentire voi E magari al più presto Lo farò Simboli esoterici Di Eric Chalin Per i simboli Ok Consigliato anche a voi In chat Che magari siete interessati Al mondo dei simboli Nessuno? Come funziona il raid? Praticamente dovrebbe uscierti un tasto Tu puoi scegliere partecipa E con il raid Inizia a guardare subito La live di qualcun altro A cui sto regalando I miei spettatori Che hanno l'opportunità Di vedere questa persona Per un attimo E magari dire Cavolo La seguo Mi piace Quando li ricevo io Succede a me Ok Andiamo allora Da Anna Manna E vai con raid Fatemi fare Bella figura Non so di che sta parlando Vedo che sta facendo Quattro chiacchiere Non sta giocando Qualcosa o altro Però Scopritele Fatemi sapere Di che sta parlando E salutatemela Ciao ciao ragazzi Grazie a tutti